Buongiorno a tutti e a tutti, come vedete non sono Rolando Tarchi, ma il professor Tarchi è impossibilitato di essere presente almeno all'inizio di questo incontro e quindi mi ha chiesto il professor Conti se posso fare io colui che dirige un po' il traffico e quindi lo faccio molto volentieri. Saluto tutti i partecipanti a questo importante e interessante seminario sulle costituzioni della guerra civile e prima di dar via i lavori abbiamo il piacere di avere con noi la collega amica professoressa Eleonora Sirsi, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza a cui cedo con grande piacere la parola. Nel porgere i saluti del direttore in carica del Dipartimento e i miei personali rivolgo il benvenuto a tutte e a tutti, i relatori e partecipanti in una delle storiche sedi dell'Università di Pisa. Un saluto anche a chi è collegato da remoto. Ringrazio il professor Gianluca Conti che si incarica da tempo dell'insegnamento di storia costituzionale già tenuto da Giuseppe Volpe valorizzando l'offerta didattica del corso di laurea magistrale in giurisprudenza e lo ringrazio per l'organizzazione di questa giornata di studi sulle costituzioni della guerra civile ad 80 anni dall'emanazione della prima costituzione provvisoria con il decreto legge luogotenenziale del 25 giugno 44 numero 151. Un incontro che segue la giornata di studi dello scorso anno intitolata 25 luglio 1943 un problema di diritto statutario o di diritto costituzionale che si svolse appunto il 25 luglio del 2023 i cui atti inaugurano la nuova collana di storie costituzionali della Pisa University Press che si accrescerà con gli atti di questa seconda giornata che si è inteso dedicare in particolare come ben esplicita la presentazione dell'incontro alla riflessione sulla forma di governo e sul sistema delle fonti dell'Italia luogotenenziale nel prisma del più ampio movimento costituzionale di un paese dilaniato dalla guerra civile. L'autorevolezza delle relatrici e dei relatori, alcuni dei quali già impegnati nella giornata di studi dello scorso anno promette i migliori risultati per la ricerca sul periodo costituzionale transitorio con questo auspicio che si accompagna alla certezza del proseguimento di questa linea di ricerca che si dimostra feconda ed evitando di togliere spazio alle relazioni auguro a tutte e tutti buon lavoro. Molte grazie per chiarire la professoressa Sirsi è direttrice in pectore eletta o meglio direttrice eletta del dipartamento di giurisprudenza e quindi in attesa del passaggio di consegne con il professor D'Alcanto che è ancora in carica attualmente. Quindi grazie per questo suo saluto e la salutiamo perché sappiamo che ha altri impegni in questa mattina quindi grazie e buon lavoro buona giornata e noi iniziamo i nostri lavori entriamo nel vivo dei nostri lavori e abbiamo l'onore di avere con noi il professor Fulco Lanchester che non vi è bisogno di presentare ma soprattutto insomma vorrei richiamare qui il suo impegno costante proficuo e duraturo sulla questa attenzione alla dimensione storica ecco del del diritto costituzionale e del diritto in genere che insomma per la passione che ci ha aperto a tutti noi delle delle conoscenze e dei degli settori che altrimenti probabilmente probabilmente non avremmo adeguatamente indagato e quindi è davvero un grande piacere e onore ascoltare oggi la sua relazione introduttiva che si occuperà del potere costituente nella dottrina italiana degli anni 30 prego professor Lanchester grazie professor Rossi siamo tutti molto formali ma se dovessi dire che le presentazioni fatte tra amici e persone che si vengono conosciute è inutile però voglio ringraziare in primo luogo il professor Gianluca Conti per il convegno dell'anno scorso e per il convegno di quest'anno e credo per il convegno dei prossimi tre anni si arriverà per parlare alla Quelli di la copertura del periodo costituzionale transitorio e provvisorio fino al 1947 questa è un'opera di Quelli pubblicata dalle edizioni del Foro Italiano nel 1950 con un ringraziamento ufficiale al suo assistente che ha corretto le borse Leopoldo Elia che dà il senso della scuola romana che è molto attenta al tema della storia costituzionale ringrazio il professor Rossi per le gentili parole ma il professor Rossi ci illumina e sostituisce bene il professor Tarchi perché credo che se venissero pesati vincerebbe il professor Rossi di poco il professor Tarchi l'ho incontrato ieri sera affettuosamente ringrazio la professoressa Sirsi che in periodo di decantazione mi si è detto come direttrice di dipartimento e ricordo il professor Giuseppe Volpi non perché sia scomparso ma perché è noto per il suo interesse di storia costituzionale per andare al sodo non sono non è soltanto un anniversario che ci interessa oggi oggi è l'anniversario di emanazione del decreto legge luogo tenenziale numero 151 cioè la prima costituzione provvisoria alla fine della mia introduzione parlerò anche della vicenda degli atti normativi tra il 1944 tra il decreto legge luogo tenenziale numero 151 e il dicembre 1947 quando viene approvata la costituzione e prima della sua approvazione viene introdotto la disposizione quindicesima disposizione transitoria finale in cui viene si dà per approvato il decreto legislativo luogo tenenziale numero 151 per evidenziare in questa fase conclusiva come il potere costituente ne fosse introiettato ormai non soltanto in parte della dottrina mortati che propose questo emendamento questo testo della quindicesima disposizione transitoria finale ma anche i ruini e i nei costituenti e cioè l'autonomia del potere costituente e la sua forza trasformatrice ecco non è soltanto questo l'anniversario il secondo anniversario e il centenario della legislatura dell'inizio della ventisettesima legislatura del regno 1924 1929 maggio 24 gennaio 29 che Benito Mussolini l'8 dicembre del 1928 nel discorso conclusivo dopo l'approvazione della legge sul gran consiglio del fascismo definì legislatura costituente e su questa base evidenzierò come la assemblea costituente e la costituzione democratica siano il contraltare della legislatura costituente ovvero della dittatura legale prima della dittatura rivoluzionaria dopo e della dittatura politica negli anni 30 questa è una definizione portata avanti nella teoria generale del diritto fascista da panunzio cui corrisponde il le posizioni più radicali della dottrina costituzionalistica negli anni 30 non i tradizionali e i cultori della teoria dello stato non i cultori della teoria della costituzione ma i radicali che ne assommano e vengono enumerati attorno a panunzio in costamagno e bigini e poiché voi siete testimoni ed eredi non soltanto di santi romano non soltanto di zanobini perché fino agli anni 20 questa era dagli anni 909 vecino a fine degli anni 20 questa era la caratteristica fondamentale della docenza di diritto costituzionale in questa università nel periodo successivo dopo salvioli un internazionalista molto noto di cui parleremo vi sono volpicelli bigini e quindi un dottrinario dello stato e un filosofo del diritto ecco analizzerò queste due momenti costituenti il momento monocratico costituente e il momento pluralistico costituente basato su una decisione che non è quella dell'atto normativo del 1944 del 151 ma nel patto di Salerno dell'aprile 1944 e negli atti che decidono la luogotenenza del re poi del regno con il primo governo Bonomi e sottolineerò come la dottrina costituzionalistica italiana del periodo precedente la dittatura e la decisione rivoluzionaria del 24 29 rifiutasse il potere costituente perché il potere costituente veniva considerato come destabilizzante e si chiamava potere costituente o si definiva potere costituente il potere costituente costituito ovvero la decisione dei tre organi parlamentari collegati da un lato legislativi collegati da un lato la camera dall'altro il senato ed infine ai sensi dell'articolo 56 del statuto il sovrano farò una analisi delle riforme costituzionali incrementali del regime fascista con il conseguente passaggio dalla tradizionale teoria dello Stato alla teoria della Costituzione quella dei giovani costituzionalisti degli anni 30 da Mortati a Crisafulli anche a Giannini ripeto nella diciamo flusso dei docenti di diritto costituzionale ed amministrativo ma Giannini è il più costituzionalista degli amministrativisti ma sotto questo punto di vista dopo aver definito il potere costituente nella sua duplice versione evidenzierò il passaggio della teoria liberale oligarchica di Vittorio Emanuele Orlando della personalità dello Stato e di Gaetano Mosca della classe politica evidenziata per la prima volta negli anni a metà degli anni 80 del secolo XIX alla teoria statolatrica social darwinista di Rocco che è la vera essenza del fascismo il fascismo viene considerato come rivoluzionario sì ma un'etichetta rivoluzionaria in cui c'è il social darwinismo di Alfredo Rocco e in questo senso deve essere presa in considerazione e sul social darwinismo di Alfredo Rocco si stabilisce il salto di qualità dalla teoria dello Stato alla teoria della Costituzione ecco il titolo della relazione è sulla dottrina costituzionalistica degli anni 30 ma bisogna evidenziare qual è la dinamica della dottrina costituzionalistica negli anni 20 con la prima epurazione perché voi vi ricordate il decreto legislativo luogo tenenziale del 27 luglio del 1944 quello sulle sanzioni contro il fascismo che definisce anche il 3 gennaio 1925 come un colpo di Stato ebbene il decreto legislativo il la il salto di qualità del 1925 comporta una ibernazione del diritto costituzionale il diritto costituzionale viene prima ibernato per i concorsi l'ultimo concorso effettuato nel 1925 bandito nel 1924 viene concluso nel 1926 a un solo vincitore a Sassari ed è il professore Emilio Crosa rappresentativo della scuola di Gaetano Mosca e di Edoardo Ruffini Avondo ma tutto a fatto particolare per dieci anni dal 1925 al 1935 i concorsi vengono scientemente bloccati dal ministero e da Romano e da Panunzio differenti fra di loro ma convergenti nella necessità di operare una selezione dei costituzionalisti con la immarginazione dei docenti alcuni come Vittorio Emanuele Orlando che è successo sulla cattedra di diritto costituzionale a Roma prima segnava diritto pubblico generale viene affiancato per la nuova legislazione costituzionale del fascismo dal senatore Pietro Chimenti ordinario a Catania fino al 1922 e accompagnato fino alla sua fuoriuscita dai ruoli nel 1931 da Chimenti che svolge i problemi della rivoluzione fascista ci sono l'emarginazione dei docenti ma c'è anche l'epurazione dei docenti dai ruoli dei non allineati con l'epurazione dei ruoli dei non allineati penso ai Enrico Presutti su cui abbiamo concettato la nostra attenzione con un convegno nel mille qualche anno fa pubblicato sulla rivista Nomos Enrico Presutti era a fianco di Matteotti nel 1924 nel maggio 1924 quando Matteotti denunziò i brogli e le violenze fasciste nelle elezioni operate con la legge acerbo ma c'era anche Gustavo Ingrosso che poi è rimanuto presidente della Corte dei Conti e che è stato escluso dai ruoli in sostanza universitari oppure l'allontanamento di docenti di diritto amministrativo ma anche di diritto costituzionale come Silvio Trentin che nel 1924 era ormai all'estero e più importante ancora l'utilizzo per l'insegnamento della materia di filosofi e dottrinari dello Stato in primis Sergio Fanunzio che insegnava dottrina dello Stato a Roma dottrina generale dello Stato Arnaldo Volpicelli che per tre anni è stato qui docente di diritto costituzionale del 34 35 36 e poi fino ad arrivare a Michele Barillari che era un filosofo del diritto che è rivenuto costituzionalista a Bari nuova sede in più segnalerò il passaggio di alcuni ordinari dal diritto costituzionale al diritto internazionale perché non più non era più possibile parlare di diritto costituzionale secondo i vecchi parametri Manfredi si ottopintora a Firenze nel 28 passa diritto internazionale e viceversa gli internazionalisti passano dal diritto internazionale al diritto costituzionale Cereti per esempio che aveva vinto un concorso di diritto internazionale pubblico a Genova precede tutti l'esperienza di Tommaso Perazzi che aveva vinto un concorso nel 1922 nell'ottobre 1922 per il diritto costituzionale con Teodosio Marchi e piuttosto che andare a Cagliari se ne va a insegnare diritto internazionale pubblico alla facoltà di economia e commercio alla futura facoltà di economia e commercio di Napoli nel 1922 23 ecco sempre in questa prospettiva metterò in evidenza come sia Sergio Panunzio sia Romano presiedono le commissioni di diritto costituzionale del 1935 del 1936 del 1939 le tre commissioni che selezionano i primi costituzionalisti del regime e i nominativi sono Esposito Zangara il primo concorso il secondo concorso Mortati Origone Bingini il terzo concorso quello del 1939 Piscaretti di Ruffia Bezio Crisafulli tutti i costituzionalisti del secondo dopoguerra i maggiori costituzionalisti del secondo dopoguerra vengono selezionati durante questo periodo e vengono selezionati durante questo periodo secondo uno schema oculato operato dai leader del costituzionalismo del regime Sergio Panunzio e Santi Romano il primo per la dottrina dello Stato o la dinamica costituzionale il secondo per la statica costituzionale ma con l'ausilio dei ministri dell'educazione nazionale Francesco Ercole Cesare De Becchi di Valcismon e Giuseppe Bottai che ricordo qui a Pisa ha presieduto la cattedra l'istituto di diritto corporativo e poi successivamente si è spostato a Roma quando è divenuto ministro successivamente a De De Becchi di Valcismon ecco la centralità di Pisa la centralità di Pisa deriva dal fatto che si sono succeduti nel tempo Romano Zanobini Salvioli poi Costamania Volpicelli Bigini e quindi sono quasi rappresentativo della dicotomia che esiste all'interno dell'ordinamento italiano fra giuristi della vecchia scuola Romano e Giano Bini e giuristi della nuova scuola quella impegnata sui principi e valori costituzionali del regime da cui trasformare il l'apparato statutario ma anche giuriscizzare il politico però il peritere costituente di questi due periodi quello della legislatura costituente del 1924-29 e quello del periodo 1944-1947 è preceduto da un'idea che il diritto costituzionale nel periodo liberale non potesse essere caratterizzato dal potere costituente perché il potere costituente veniva considerato come pericoloso come alternativo al sistema statutario e sotto questo punto di vista vorrei citare il la posizione di Zanardelli ieri sera la dottoresse che gentilmente accompagnavano la nostra cena a cui eravamo collegati hanno messo in evidenza l'importanza di archive.org esiste un'opera di Zanardelli delle dispense di diritto costituzionale studi sulla sessione parlamentare del 1861 1863 uno dice Zanardelli chi è? Zanardelli non soltanto è un uomo politico che ha caratterizzato tutta la seconda metà del secolo XIX ma è anche una persona che faceva dispense di diritto costituzionale per i suoi elettori su ciò che portava avanti in Parlamento e di fronte al rifiuto del potere costituente in senso stretto e all'adozione del potere costituente in senso lato come potere costituente costituito di un statuto flessibile e poi elastico afferma negli studi sulla sessione parlamentare dispensa tra i fascicoli 6-7-8 Brescia-Pollonio 1864 pagine 1-2 non lo trovate in Italia lo trovate negli Stati Uniti d'America vissuto invece il nostro Parlamento durante questi due lunghi anni in giorni di pace ma all'indomani di lotte che avevano suscitato tutte le energie e tutti gli entusiasmi di una grande risurrezione nazionale questa assemblea l'assemblea unitaria di un popolo la prima volta libero e unito diveniva una specie di costituente italiana poiché se essa non aveva da dettare una costituzione le era affidato tutto quell'ordinamento civile e militare in cui più che nei pochi articoli di un patto sempre docile e flessibilissimo lo statuto si adempia e concretasi la libertà la potenza la vita interna ed esteriore di una nazione lo stesso Zanardelli più avanti dissente sul tema dell'immutabilità dello statuto dalla posizione del ministro Ubaldino Peruzzi per abbracciare quello di Emilio Broglio in sostanza il potere costituente quindi come potere speciale per lui il potere il senso lato è distinto non esiste esso è compenetrato nel senso stretto scusate esso non esiste esso è compenetrato nel legislativo e come tale è perpetuo costante quotidiano quindi il potere costituente come elemento di tipo quotidiano chi si sia chi esamini la dottrina costituzionalistica del periodo del periodo storico politico fino agli anni ottanta e poi fino alla rivoluzione orlandiana e alle proposte di Mosca può evidenziare che quasi nessuno si occupa del potere costituente solo Gaetano Arangio Ruiz lo fa che era un esperto di storia costituzionale poiché nel 1898 scrisse una storia costituzionale del regno d'Italia e nella sua nella sua voce sull'encicloforia giuridica italiana costituente del 1906 travasa un suo volume di circa 100 pagine del potere costituente delle sue forme e dei suoi limiti tesi per il pareggiamento in diritto costituzionale Napoli per Rotti 1887 e evidenzia che il potere costituente può nascere anche però da una rivoluzione e il potere costituente può esprimersi in forma legale o illegale ma legittima legale o illegale ma legittima e questo è uno degli elementi del primo potere costituente che esaminiamo oggi dove il primo trasborda dai limiti dell'ordinamento in cui opera legalmente mentre il secondo agisce illegalmente ma si legittima sulla base del fatto ecco sotto questo punto di vista allora abbiamo la possibilità di arrivare alla ricostruzione del processo di fascistizzazione dello Stato che avviene prima attraverso la procedura formalmente legale poi rivoluzionaria poi incrementale e politica e questo è di nuovo una citazione di Panunzio descrivo le tappe del primo dei due anniversari di cui ho parlato nell'introduzione nella parte introduttiva di questa introduzione ovvero dell'inizio della ventisettesima legislatura del regno 24 maggio 24 21 gennaio 29 il 27 maggio diviene presidente della camera dei deputati Alfredo Rocco il 28 sulla base della mozione grandi si ritorna al sistema degli uffici sistema degli uffici che era stato superato nel 19 del regolamento che aveva dato luogo al volume del 21 di Ambrosini gruppi parlamentari partiti dopo la proporzionale nel 30 interviene Matteotti sui brogli e le violenze elettorali il 7 giugno ordine del giorno del qua in cui viene concessa la fiducia al governo viene rapito il 10 Matteotti di giugno il cui cadavere viendrà recuperato il 16 agosto sulla scia delle reazioni a quest'ultimo fatto Federsoni subentra Mussolini come ministro dell'interno e il 25 26 giugno viene confermata la fiducia al governo il 27 di questo mese inizia la ventino sempre giugno quindi sì il 151 ma il 27 giugno del 1924 inizia la ventino con la stenzione della camera fino al ripristino della legalità costituzionale il primo cioè il rimpasso del governo con gentile all'istruzione il 4 agosto inserzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale tra i corpi militari e la fascistizzazione dello Stato anche l'inserzione ma ha degli scopi di moderazione di controllo della milizia volontaria di partito che stava sfuggendo di mano a Mussolini 4 settembre istituzione da parte del PNF e della commissione dei 15 commissione per studiare le riforme costituzionali mentre gli esponenti dell'opposizione sono sotto tiro per esempio Gobetti il 15 novembre Giolitti esce dalla maggioranza mentre Antonio Salantra si dimette dalla presidenza della commissione bilancio e il periodo della dittatura rivoluzionaria inizia il 3 gennaio con il discorso di rottura di Mussolini il 5 Alfredo Rocco diventa ministro della giustizia il 14 di gennaio vengono approvati 2376 decreti legge dalla Camera mentre il 17 è approvata la nuova legge elettorale è un plurality notate bene che la storia costituzionale insegnata dal professor Conti ci dice che la legge elettorale è una legge di regime ovvero la legge fondamentale anche se non è coperta da la costituzione o da rigidità costituzionale è l'elemento essenziale delle norme dei valori delle regole del gioco delle strutture delle autorità in cui agiscono gli attori politicamente rilevanti e viene approvata la legge elettorale mai applicata con il plurale che in collegio non è anale il 31 gennaio viene istituita dal presidente del consiglio dei ministri ministro degli affari esteri la commissione la commissione 18 ovvero la commissione dei soloni la quale come la commissione dei 15 la cui relazione è aggiunta alla relazione dei 18 e la redazione aggiunta è quella di Santi Romano nel 24 viene istituita questa commissione considerata la profonda trasformazione politica morale ed economica avvenuta nella nazione per effetto della guerra vittoriosa considerata la necessità di sviluppare e perfezionare con prudenti norme complementari le istituzioni giuridiche concernenti i rapporti fondamentali tra lo Stato e tutte le forze che esso deve contenere e garantire per di assicurare per tale modo la pace la potenza e il progresso nazionale decreta è costituita una commissione in cui ci sono Gentile Corradini Greppi Mazziotti Melodia Rossoni Ercole Gioacchino Volpe Rocco Arturo e Romano Santi e questa commissione dice che le commissioni di studio dei docenti universitari o anche degli esponenti politici nulla possono di fronte alla decisione dittatoriale in questo momento perché la relazione presentata a luglio con una da Domenico Barone e una relazione per il ritorno alla monarchia costituzionale pura e un ricorno in sostanza alla discussione crispina e invece il duce del fascismo che attiva il meccanismo di il partito che attiva il meccanismo di trasformazione rivoluzionaria attraverso la legge sul primo ministro segretario di Stato del dicembre 1925 la su cui unico al Senato contro cui unico al Senato si alza e parla Gaetano Mosca dicendo che non è compatibile con lo Stato con lo Stato e lo Stato liberale ma poi viene approvata la legge 100 sugli atti normativi l'inizio della riforma corporativa il la legge sul Gran Consiglio del Fascismo in particolare la legge elettorale la legge elettorale che dà la possibilità ecco cosa dice Daetano Mosca la legge elettorale su cui Gioalitti il 16 marzo 28 in occasione dell'approvazione alla Camera della nuova legge elettorale previscitaria dice questa legge che affidando la scelta dei deputati al Gran Consiglio del Fascismo esclude dalla Camera qualsiasi opposizione di carattere politico segna il decisivo distacco dal regime fascista dal regime retto dallo Statuto perciò anche a nome di alcuni colleghi dichiaro di non essere nella possibilità di dare il voto favorevole al disegno di legge e Mussolini in sostanza nell'8 dicembre del 28 ribadisce dopo l'approvazione della legge sul Gran Consiglio del Fascismo questa 27esima legislatura è destinata a rimanere nella storia del nostro paese sotto il titolo che già le è stato assegnato di costituente della rivoluzione fascista poiché ormai nessuno dei nostri avversari ottusi o vociferatori o criminali osa negare che noi abbiamo compiuto e stiamo compiendo e compiremo una rivoluzione se rivoluzione significa cambiamento rapido e totale di un determinato ordine di cose e creazione di un altro ordine di cose i costituzionalisti non ne prendono atto immediatamente prendono atto dell'inserzione nell'ambito del sistema delle leggi costituzionali della categoria delle leggi costituzionali perché per la modificazione dello statuto su determinate materie vi deve essere il paese però non vincolante si sostiene del Gran Consiglio del Fascismo che è in sostanza un organo di partito ed il problema è che la dottrina il vecchio Ferracciu l'analizza e fa contratto con il fascismo Trentin lo lo biasima in un'opera che è interessante in francese proprio nel 1930 31 tutta la discussione è quella derivante dall'inserzione del partito della formazione dello stato autoritario come partito stato e poi stato partito costituzionalisti come Ambrosini parleranno nel 1934 dello statuto del partito fascista come regolamento generale del regno non più statuto ma lo statuto del partito fascista e il regolamento generale dello stato italiano nazionale i costituzionalisti si dividono nella vecchia schiera collegata soprattutto al diritto amministrativo dei cultori della teoria dello stato con impostazioni di tipo romaniano e i cultori invece della nuova teoria della costituzione basato sui principi e valori costituzionali in questo nel volume di mortati del 1931 originato dalla tesi sull'ordinamento del governo nel nuovo stato fascista è significativo perché c'è il tentativo di giuridicizzare il politico rispetto alla situazione di eccezionalità della rivoluzione incrementale del regime tutta la discussione che ci sarà sull'indirizzo politico normativo esistenziale deriva da un'impostazione che è quella di Chisa Fungli più virgolette romaniana rispetto a quella di mortati che una sintesi sarà l'ordinamento giuridico di Romano la decisione politico costituente di Schmidt ma la giuridicizzazione del politico attraverso la teoria della costituzione e sotto questo punto di vista vi sono giuristi che tendono ad evitare costituzionalisti corporativisti che tendono ad evitare il potere discrezionale che diventa arbitrario per esempio uno delle categorie uno dei personaggi più interessanti di cui mi sono occupato è Chiarelli Chiarelli nel 1900 dove la signora la dottoressa di Perugia ecco perché la dottoressa di Perugia ha avuto come predecessore a Perugia Panunzio Panunzio nella regia facoltà fascista di scienze politiche è stata caratterizzata da due personaggi Maranini da un lato e Chiarelli dall'altro ecco Maranini che portava avanti il settore della storia costituzionale e dopo la sua opera su Venezia della rivoluzione francese e il superamento della divisione dei poteri e Chiarelli che sottolineò il problema dell'importanza del diritto corporativo venne bocciato nel concorso di diritto corporativo come Costamagna primo concorso bandito da voi qui in questa università per dire che sembra che io mi soffermi troppo sui concorsi ma i concorsi sono chiarificatori di un indirizzo politico culturale e nel 1929 venne bandito un concorso di diritto corporativo qui a Pisa e venne offerto a Santi Romano di presiederlo rifiutò venne preseduto da Asquini la commissione fece vincere Costamagna che era leader all'interno del regime e delle opere delle istituzioni culturali fasciste ma lo fece in maniera così contraddittoria che il consiglio superiore della pubblica istruzione annullò gli atti e a questo punto Costamagna diventò sempre più radicale voglio leggere una cosa interessante la relazione della commissione di concorso del 1935 quella che fece vincere Sposite Zangara giunta al termine dei suoi lavori la commissione esprime il proprio compiacimento perché dopo dieci anni si è bandito un concorso di diritto costituzionale rilevando l'importanza fondamentale di questa disciplina nel momento in cui la rivoluzione fascista ha rinnovato nelle sue basi l'ordinamento dello Stato mentre afferma che per questa ragione dal diritto costituzionale tragano i loro principi dello Stato fascista tutte le altre discipline questa è un'idea romaniana dell'albero e dei rami così del diritto pubblico che del diritto privato esprime l'augurio che vostra eccellenza voglia dare il massimo impulso agli studi della disciplina e in breve termine bandire un altro concorso della materia affinché gli studiosi che già in questo concorso si rivelano come sicure premesse possono vederla riconosciuta ed erano chimenti donato donati sergio panunzio emilio croza ambrosini il componente segretario relatore era ambrosini ma questo è un pezzo di panunzio con chiarezza la commissione la commissione mette in cattedra mortati costantino origone agostini bigini carlalberto si rivolge così in conclusione a il ministro che era dei vecchi di gioccalcismo la commissione nel presentare all'eccellenza vostra le conclusioni sopra indicate si compiace di segnalare all'eccellenza vostra che gli studi costituzionalistici nel nuovo regime sono in pieno fervore e meglio promettono per i prossimi anni ormai dopo gli ultimi due concorsi dell'eccellenza bolsa bandite la posizione del diritto costituzionale superata e le accese discussioni è fortemente consolidata criterio costante direttivo della commissione stato eccetera eccetera cioè 1936 l'anno del consenso è anche l'anno in cui si prepara la rottura dello statuto lo statuto è già frantumato con il 24 29 ma il equilibrio monarco fascista la diarchia che reggeva il sistema viene incomincia ad essere negli anni del consenso sempre più instabile perché il partito è divenuto stato partito e sta per emarginare anche la monarchia non ci riuscirà nel 1943 il simbolo ma nel 1938 ci sono tre atti normativi che caratterizzano la rottura quella che porta costantino mortati a parlare di costituzione in senso materiale e luigi rossi a parlare di elasticità dello statuto elasticità fino al punto di rottura che comporta il passaggio ad un successivo regime e sono legge sul maresciallato dell'impero marzo aprile del 1938 con la denegazione da parte del sovrano ai sensi dell'articolo 56 dello statuto della sanzione regia per due giorni poi arriva il duce con un affidavit di santi romano in cui si sostiene la necessità di rispettare gli interna corporis del Parlamento dell'assemblea e della Camera per cui Costanzo Ciano non aveva violato lo statuto e c'è la famosa affermazione di Vittorio Emanuele riportata da Renzo De Felice cosa mi interessa di un rapporto dei di costituzionalisti i costituzionalisti fanno ciò che gli si dice soprattutto se si è dei pavidi come santi romano questa è la prima affermazione il secondo è il settembre ottobre 1938 le leggi razziali lo statuto si era basato sulla concessione da parte del sovrano di una carta con dei diritti civili e politici e con l'emancipazione subito dopo dei valdesi e degli ebrei degli israeliti e passando il Ticino Carlo Alberto aveva emancipato gli ebrei e nello stesso tempo aveva assunto il triturore al posto della croce in campo azzurro Samaura questa è la seconda rottura la terza rottura è la sostituzione della camera dei deputati con la camera dei fasci delle corporazioni ed è per questo che il buon Piggini che è riuscito ad andare in cattedra e sta per fassare qui a a Pisa scrive alcune osservazioni intorno all'istituzione di fatto di un ordinamento costituzionale alla sua legittimazione che evidenzia come una parte della dottrina costamagna Vigini Panunzio stiano per superare il patto di artico che si confermerà poi confermerà poi dopo il 1943 nel progetto di costituzione di cui parlerà Luigi Ciaurro oggi pomeriggio della RSI con l'elezione diretta del capo del governo premierato sì prefigura a questo punto la dottrina costituzionalistica italiana si divide fra i radicali che sono attorno allo stato di Rosbork costamagna e i personaggi della nuova dottrina che sono attorno ad una rivista che si viene fondata da Chiarelli nel 1939 è stato il diritto l'idea che è stato il principio della divisione dei poteri e il principio del rafforzamento dell'esecutivo e debba essere correlato anche però dal stato di diritto viene sostenuto da Chiarelli e dagli autori che sono coinvolti nella rivista dal 1939 sono per esempio Maranini sono Pezio Crisafulli mortati e via dicendo evidenziando la alternatività di un'impostazione che non vuole passare come la giovane dottrina voleva la giovanissima dottrina per esempio Pierandrei che è stato ha scritto un volume sui diritti pubblici subiettivi nel 1939 ebbene per l'eliminazione dei diritti pubblici subiettivi nell'ordinamento fascista perché non più coordinati con il nuovo ordinamento 1944 arrivò alla fine velocemente mortati vedo il dottor Dorazio davanti a me che ha curato l'archivio che è stato depositato in fondazione Galizia si scrive chiede di iscriversi alla democrazia cristiana mario scelva gli risponde vice segretario nazionale ma prima però sto sintetizzando devi chiarire alcune tue posizioni su gli archivi gli studi dell'università di macerata e soprattutto su esecutivo legislativo nel diritto pubblico italiano in cui sosteneva per esempio che il gladio di Roma aveva tagliato il nodo di gortio dei partiti con le riforme costituzionali mortati risponderà io mai fascista io sempre giurista al di sopra delle patti però dice una cosa interessante ed importante che nell'evoluzione dello stato moderno e dello stato moderno l'elemento essenziale del stato moderno in cui si inserisce anche lo stato fascista tre sono gli elementi caratterizzanti primo il rafforzamento il indebolimento delle assemblee parlamentari secondo il rafforzamento dell'esecutivo terzo il rafforzamento dell'intervento diretto del corpo elettorale sono le posizioni che porterà avanti alla costituente sono le posizioni che porterà avanti alla costituente mentre in questo volume che ho già mostrato al professor Gianluca Conte e che è un inedito a stampa di Giuseppe Calen di Giovanni Calendoli incaricato di deputato alla Camera dei Fasci delle Corporazioni e prego guardalo perché è interessante è stato pubblicato il 10 luglio del 1943 quindi non è vista in nessuna biblioteca italiana perché nessuno si è curato di catalogarlo istituto dei panorami di realizzazioni del fascismo sì ed è importante ecco si parla di superamento della divisione dei poteri ma andiamo al secondo avvenimento quello di oggi su questa base tutti i costituzionalisti si riconvertono tra 1943 44 e 45 tutti si convertono leggete le opere di Crosa sullo Stato democratico la costituente del 45 di Mortati Biscaretti di Ruffia e via dicendo tutti si riconvertono sulla base dei principi e dei valori dell'ordinamento democratico che sembra abbia rilevanza Patto di Salerno proclama di ritiro dall'attività politica di Vittorio Emanuele 12 di aprile solo però al momento della liberazione di Roma 4 giugno 5 giugno si libera Roma e quindi a Ravello viene sottoscritto l'atto di nomina del luogotenente del re l'atto dice del re mio luogotenente mio come? nostro sì mio nostro mio però l'atto viene intitolato luogotenente del re quindi questo è l'elemento essenziale 8 giugno ci sono le dimissioni di Badoglio 18 giugno la presa di possesso del governo Bonomi 22 giugno la presa il primo consiglio dei ministri in cui viene portato un atto che sarà quello il 151 in cui non si parla di costituente assemblea costituente all'articolo questo dagli atti curati da Ricci risulta evidente non si parla di assemblea costituente viene integrato semplicemente dopo assemblea costituente e si parla di all'ultimo articolo articolo 6 di conversione del decreto legge luogotenenziale da parte delle nuove camere dopo l'assemblea costituente bene decreto legislativo luogotenenziale numero 98 del 46 seconda costituzione provvisoria io so già che il professor Conti farà un nuovo convegno anche su questo anche sulla legge elettorale sempre di quell'anno il la rottura il colpo di stato segnalato da Barile è quella del 9 maggio 1946 con l'abdicazione di Vittorio Emanuele e Umberto assume il titolo di re d'Italia quindi è una rottura i titoli sono interessanti sotto questo punto di vista e sotto questo punto di vista è sottoscritto da De Gasperi che però opera nel primo nella prima decade dopo di giugno in maniera molto dura nei confronti della monarchia segnalo che i costituzionalisti si dividono Crosa Bodda anche forse Esposito incidono con un documento del partito liberale sulla Cassazione e sulla proclamazione della Repubblica per il ritardo della proclamazione della Repubblica per i problemi del quorum Mortati scrive un articolo il 15 di giugno feroce contro i costituzionalisti che hanno fatto questo documento e ci sono in archivio Mortati delle lettere di Esposito in cui si dice perché te la prendi con noi discutiamone la sostanza è che il potere costituente viene certificato il 7 di dicembre del 1947 nella discussione sulle disposizioni transitorie finale Mortati che aveva scritto un pezzo sulla diritto la rassegna di diritto pubblico quella di Tesauro nel 1947 su questo problema presenta in assemblea un emendamento transitorio finale il quindicesimo per la conversione del decreto legislativo luogo tenenziale 151 cambiando e giustificando il fatto che non si poteva dare al successive camere il potere di approvare o non approvare il decreto legge luogo tenenziale come ho già detto Ruini dice non è elegante però ha un fondamento e approva il cambiando il la dizione non è convertito ma si ha per convertito e lo lo dice lui così come ha tolto all'articolo 75 le leggi elettorali e da quelle che non possono essere sottoposte al referendum perché l'assemblea costituente aveva approvato questo gli interna corporis risalgono non da santi romano ad elia che sostiene che non si fossero sindacali di interna corporis quindi due episodi due anniversari l'anniversario del decreto legge luogo tenenziale 151 di oggi che ha nel 7 dicembre 1947 il riconoscimento del potere costituente della sua autonomia e la legislatura costituente iniziata nel maggio di cento anni fa come legislatura costituente della rivoluzione fascista questi sono gli elementi che certificano il passaggio della dottrina costituzionalistica italiana dal potere costituente costituito al potere costituente deciso da una persona o da un partito o da un gruppo di forze che stanno alla base del sistema si potrebbe anche dire che il potere costituente e con questo concludo veramente così mi prendo non qualche fischio negli anni 90 inizio anni 2000 è stato considerato estinto Doliani per esempio ha considerato estinto il potere costituente oppure Antonio Negri con Harta hanno considerato il potere costituente esterno allo stato nazionale il potere costituente esiste il potere costituente in realtà esiste così come esistono le forzature della costituzione chi buona intende intendo grazie si può dire che esiste ma non si sa dov'è insomma non e comunque grazie mille per questa relazione molto ricca insomma che ha avuto diciamo tra i tanti meriti quello di diciamo mettere in connessione queste due vicende storiche questi due anniversari questi due momenti di rottura o appunto di potere costituente che si sono espressi in modo così diverso ma che hanno certamente costituito dei passaggi tutti interni per così dire una continuità statutaria no che almeno appunto dal punto di vista formale che insomma in qualche modo fa riflettere che ci apre ora alle considerazioni degli altri interventi darei la parola per il primo luogo al professor Gianluca Conti che come sappiamo è il promotore l'ideatore di questo convegno ma anche un po' di questa attenzione che ci sollecita alla storia costituzionale possiamo anche dire che Gianluca che si realizzerà una collana con Pisa University Press dedicata appunto alla storia costituzionale di cui tutti voi siete invitati a scrivere e a pubblicare e quindi insomma il professor Gianluca Conti ci parlerà della costituzione provvisoria ed intorni la forza del sentimento del diritto il professor Conti è sempre pieni di quasi è sempre immaginifico nei suoi titoli e ora ci spiegherà questa forza del sentimento in primo luogo volevo ringraziare Fulco Lancester per dire la meravigliosa relazione che ci ha tenuto io non avevo nessun dubbio il tema appena ci ho pensato era è il tema forse che mi piaceva di più sentire e devo dire è stato affrontato come mi aspettavo ringrazio poi Emanuele Rossi per l'aiuto che ci sta dando nell'organizzazione di tutte queste attività ringrazio in maniera più che formale il dottor Santini perché senza di lui tutte queste cose non si riuscirebbero mai a fare e devo dire che la sua passione è sotto molti aspetti per me un grande stimolo e un grande incoraggiamento ringrazio da ultimo la professoressa Patti che ci permette di aprire il nostro scenario giuridico ad altri settori e questo perché anche nel futuro ci piacerebbe che queste attività di storia costituzionale fossero un pochino più capaci di integrare la storia costituzionale in dei panorami culturali un pochino più ampi e quindi per questa ragione in questo pomeriggio ci dedicheremo ad ascoltare il rapporto tra potere costituente e avanguardie artistiche che è forse una delle cose che a me interessavano di più in questa giornata di studio e quindi io ringrazio molto per aver raccolto una sfida abbastanza complessa e credo in maniera estremamente soddisfacente il titolo di queste poche parole con cui cercherò di annoiarvi il meno possibile è Costituzione provvisoria e dintorni la forza del sentimento nel diritto dove il primo problema che ho sempre un po' avuto nello studiare il tema della Costituzione provvisoria è proprio l'idea che possa esistere una Costituzione provvisoria per tutti noi l'idea di Costituzione è l'idea di un programma normativo che si impone al futuro e di conseguenza è un qualche cosa che non potrebbe essere provvisoria non potrebbe essere dotato di una caratteristica programmaticamente transitoria quindi noi abbiamo costruito tutta la nostra Costituzione si potrebbe dire su di un ossimoro e questo lo trovo abbastanza interessante uno di quei paradossi abbastanza divertenti che ci possono invitare a riflettere sul valore delle cose ci insegnava prima il professor Lanchester che il decreto legge luogo tenenziale 151 del 1944 ma ce lo dirà ancora meglio dopo di me e assai meglio di me il dottor Caterina è sul piano delle fonti del diritto un coacervo abbastanza infinito di problemi il primo problema riguarda le norme sulla produzione del decreto legge luogo tenenziale 151 del 1954 ci è stato ricordato prima che in questo momento in teoria non esiste il luogo tenente del regno ma esiste il luogo tenente del re però questo decreto legge è intestato al luogo tenente del regno possiamo dire poco male il tutto alla fine è poco più che una questione nominalistica in realtà non è così nello stesso tempo è molto difficile riuscire a recuperare quali sono le norme sulla produzione della decretazione di urgenza in questo momento perché la principale di queste norme è contenuta nella disciplina sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ma la Camera dei Fasci e delle Corporazioni è appena stata sciolta e quindi vi è chi ha detto e chi ha sostenuto in realtà secondo me in maniera non del tutto ragionevole che la fonte sulla produzione abrogasse la fonte sulla produzione stessa creando uno di quei paradossi circolari di cui è pieno il nostro diritto e che sarebbe abbastanza interessante in realtà forse non è così poi vi è un ulteriore aspetto che trovo abbastanza interessante in questo semolo il fatto che questa norma questo decreto legge abbia avuto una doppia convalida e vi direi convalida perché quel si ha per convertito assomiglia più a una convalida o a una ratifica che non ad una conversione la prima sicuramente nelle disposizioni transitorie e finali della costituzione questo tutto sommato non è così irragionevole perché se ci pensate la seconda costituzione provvisoria affida all'assemblea costituente il compito di legiferare in materia costituzionale quindi la conversione del decreto legge che istituisce l'assemblea costituente è sicuramente materia costituzionale quindi sicuramente spettava all'assemblea costituente almeno secondo me però quello che è più interessante è forse la prima delle convalide perché la prima delle convalide come nota in maniera assolutamente per spicua lavagna è nello stesso referendum del 2 giugno del 1946 perché se un senso ha avuto quel referendum il senso di quel referendum è stato proprio quello di ratificare tutto ciò che era accaduto fino a quel momento infine l'aspetto almeno secondo me un pochino più intrigante quello sul quale ho cercato di soffermare la mia attenzione non so con quanto successo e che sottopongo ai vostri strali riguarda l'essenza del potere costituente che si manifesta in assemblea costituente perché a mio avviso alla fine quando si parla di potere costituente e su questo proverò a tornare si individua sempre in qualche cosa che in astratto dipende tanto dalla impostazione di teoria generale che si sceglie di seguire in concreto dipende tanto da una serie di accadimenti abbastanza spiccioli abbastanza minimi che si collegano gli uni agli altri e che creano il valore di quell'evento ecco nel caso della nostra costituzione l'aspetto più interessante è che non esiste una norma sulla promulgazione del testo costituzionale cioè se voi ci fate caso per quanto si voglia rintracciare sia nella prima costituzione provvisoria che nella seconda costituzione provvisoria che nel decreto legislativo presidenziale numero 1 del 1946 noi non stabiliamo da nessuna parte come e perché si sarebbe promulgato il testo della costituzione di qui noi in teoria avremmo due grandi alternative la prima alternativa è che è l'assemblea costituente che ha il potere di fare la costituzione e se ha il potere di deliberare la costituzione la sua deliberazione è efficace di per sé nel momento in cui si dice all'assemblea costituente spetta di deliberare sulla costituzione non si dice che quel testo dovrà essere deliberato dovrà essere promulgato scusate e allora io trovo molto interessante il fatto che il 22 dicembre del 1947 in quello strano insieme di voti si trovi anche il voto sulla disposizione transitoria e finale che stabilisce come e perché la costituzione entrerà in vigore e con cui l'assemblea costituente limita il proprio potere stabilendo che il testo che ha deliberato dovrà essere promulgato dal capo provvisorio dello Stato cosa che avverrà e avverrà con una formula abbastanza interessante perché il capo provvisorio dello Stato nel promulgare la costituzione richiama due cose una la deliberazione dell'assemblea costituente due la diciottesima disposizione transitoria finale che è quella che dice che la costituzione entrerà in vigore per effetto della promulgazione da parte del capo provvisorio dello Stato e secondo me nel nostro caso la cosa interessante del nostro potere costituente è proprio l'aver ricercato questo atto di assenso di colui che rappresentava l'unità della nazione e che riempie in un certo senso di significato quello che viene deliberato dall'assemblea costituente gli dà un passaggio in più che ricorda un po' una consuetudine di vago sapore statutario la sanzione regia se vogliamo qualche cosa del genere ma che ci permette forse di riflettere se il potere costituente anziché essere il potere che delibera se stesso non sia piuttosto il potere che decide sulla sua promulgazione e il nostro potere costituente ha deciso di non essere sufficiente a se stesso di aver bisogno di qualcosa in più e questo l'ho trovato abbastanza interessante nei nostri passaggi quali sono i dintorni il secondo passaggio del mio titolo mi insegnava ieri il professor lancester che la maniera migliore di commentare un testo è commentarne il titolo e quindi altro non farò rispetto a quello che ho scritto allora i dintorni della nostra assemblata costituente sono secondo me abbastanza interessanti il primo e non lo si dice mai forse per una sorta di pudore che affligge tutti noi costituzionalisti quando parliamo di un'esperienza che un po' ci spaventa è la legge sui pieni poteri la legge sui pieni poteri è una legge che similmente alla costituzione provvisoria definisce le modalità di abrogazione di un testo costituzionale e se voi ci riflettete la costituzione provvisoria riprende quel modello e l'essenza della costituzione provvisoria è il dire vi dico vi spiego rendo definitiva la possibilità di abrogare e superare lo statuto è il momento potremmo dire in cui lo statuto finalmente diventa rigido era diventato un pochetto rigido col gran consiglio sul fascismo come scrive Esposito adesso diventa rigido per davvero perché può essere modificato solo in un modo ed è buffa questa norma questa costituzione che diventa rigida quando sta per morire il secondo grande d'intorno che secondo me illumina l'esperienza delle costituenti è la costituente francese della quarta repubblica e la costituente francese della quarta repubblica è una grande riflessione sul valore del referendum e questo non poteva non essere presente ai costituenti io credo che sia un po' un vezzo di noi costituzionalisti italiani quello di ignorare l'esperienza costituzionale francese la storia costituzionale italiana è strettamente fortemente debitrice dell'esperienza costituzionale francese e questo lo è stato almeno fino alla quinta repubblica l'esperienza del referendum ci dice che tutto sommato le costituzioni possono essere approvate secondo due grandi modelli in un primo modello il testo deliberato da un determinato soggetto incaricato di elaborare quel testo viene sottoposto al referendum il secondo modello è l'elezione di un'assemblea costituente ed è molto interessante che la nostra costituzione sia stata approvata secondo il secondo modello sia stata approvata secondo l'elezione diretta di un'assemblea con il compito di deliberare un testo costituzionale ma che si affidi per la propria revisione al primo modello e questo perché è di nuovo esposito su questo riflette a lungo il forte valore della nostra costituzione è proprio quel referendum che in un certo senso supera e arrivo al sentimento i plebisciti di annessione i plebisciti di annessione noi li guardiamo come un dato meramente formale in realtà sono stati un qualcosa di più perché il regno d'italia è qualcosa di più di quello che la nostra generazione ha imparato studiando a scuola è intriso di sentimenti c'era nell'idea del regno un qualche cosa che travalicava la stessa forza del diritto e che aveva molto a che fare con una nazione ecco l'abrogazione dello statuto ha in un certo senso a che fare con l'abrogazione di un sentimento e la cosa divertente a questo punto su cui viacerebbe riflettere con voi è che cosa significa abrogare un sentimento abrogare un sentimento sicuramente significa rendere definitiva una determinata cesura e questo è il valore del referendum del 2 giugno del 1946 rende definitivo un determinato abbandono ma dall'altra parte c'è un'idea in più che è quella di sostituire quell'abbandono con un nuovo innamoramento e allora la costituzione provvisoria che noi di solito siamo abituati a leggere sull'arido piano delle fonti se così mi posso esprimere è in realtà qualcosa di più è intrisa già di quei valori che poi rendono la nostra costituzione un qualche cosa di cui ci si può innamorare almeno quanto e forse anche un po' di più ci si poteva innamorare dello statuto albertino e questo perché la nostra costituzione nasce da un'idea che è effettivamente costituente e che è un principio maggioritario reso vivo da dei partiti che si confrontano lealmente più o meno ma che senz'altro si rifanno a degli orizzonti ideologici e che senz'altro cercano di essere formazioni sociali nelle quali si può realizzare la personalità dei cittadini e questo lo trovo forse un aspetto interessante tutto questo a mio avviso non è generalizzabile forse l'unica cosa di cui io mi sono convinto studiando il potere costituente è che il potere costituente può essere una necessità logica nella filosofia politica può essere molto interessante da studiare nella necessità di trasformare la moltitudine in uno e quindi tutto sommato è un problema tipicamente spinosiano però poi nella realtà è un qualche cosa che va letto nella microfisica del potere e quindi non esiste un potere costituente ma esistono tanti poteri costituenti quante sono state le costituzioni con la precisazione che almeno a mio avviso il potere costituente non è necessario a qualsiasi forma di sovranità è necessario solo in un caso ed è il caso in cui una sovranità giustifichi se stessa con se stessa che è esattamente quello che accade con la rivoluzione francese la grande trasformazione questo lo dice molto bene schmidt nel pensiero dalla rivoluzione americana alla rivoluzione francese è proprio l'idea del potere costituente l'idea del potere costituente è lo stato che giustifica se stesso attraverso se stesso questo a mio avviso appartiene ad un mondo che ormai non esiste più la mia personale convinzione è che oggi davvero il potere costituente sia un qualche cosa di cui ha poco senso parlare e questo lo dimostra molto bene la vicenda dell'unione europea e questo perché lo stato non si giustifica più per se stesso oggi lo stato non ha più questa idea al suo fondamento forse possiamo essere cinici e credere che lo stato si giustifichi per il mercato e quindi trovi un suo fondamento altrove è quello che ci sembra raccontare l'unione europea forse possiamo essere ottimisti e dire che lo stato si fonda sui diritti individuali e quindi ha un suo fondamento che comunque è esterno a se stesso io personalmente non voglio scegliere tra queste due alternative ma mi limito soltanto a dire che probabilmente è una categoria di cui è arrivato il momento di non voglio dire fare a meno ma di lasciarla gli storici del diritto e concentrarci invece su cose un po' più serie grazie grazie Gianluca sempre suggestivo riflessione del professor Conti ma un passaggio molto eliminare del tuo intervento mi ha posto però la domanda quando tu dicevi delle delle dei premisciti di annessione alcuni di questi prevedevano l'istituzione di un'assemblea costituente ricordavo questo ne parlava anche Pizzolusso quando parlava insomma della della costruzione del dell'unità e poi dello stato italiano e faceva emergere questa domanda rimasta in evasa no poi di arrivare appunto a costruire mediante un'assemblea costituente un nuovo un nuovo assetto costituzionale ecco se questo diciamo come si colloca in questa poi realizzazione del potere costituente in questa fase storica ma magari ne avremo modo di parlare allora passiamo ora alla prima costituzione provvisoria e quindi entriamo nel merito insomma di ancora di più del tema di oggi la prima costituzione provvisoria nel sistema delle fonti con Edoardo Caterina che leggo Università di Studi Macerata ma in realtà insomma è anche un pochino nostro Edoardo Caterina Grazie anche io naturalmente ringrazio molto il professor Conti per l'invito a partecipare a questo bel seminario io mi sono confrontato con il tema della prima costituzione provvisoria nel sistema delle fonti ed è un tema su cui già il professor Conti ha detto qualcosa e anche il professor Lanci è stato ricordato dal professor Conti il fatto che la prima costituzione provvisoria era un decreto legge logotenenziale che fondava diciamo la propria legittimità apparente su una una legge del 1938 la legge sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni che all'articolo 18 appunto conteneva una previsione con cui si consentiva l'emanazione di decreti legge di reali decreti in alcuni casi fra cui appunto in caso di guerra l'articolo 18 della legge 129 del 38 è stato anche ricordato dal professor Lanchester la vicenda della quindicesima disposizione transitoria questa singolare conversione in legge di un decreto legge che poi viene chiamato decreto legislativo ad opera di una disposizione costituzionale già questi due elementi inducono una certa sorpresa e io direi che questa sorpresa è una sorpresa che deriva dal fatto che si sono avuti diciamo due atteggiamenti differenti riguardo a questo atto a questa fonte del decreto legge logotenenziale da un lato si aveva l'atteggiamento di un ceto di giuristi burocrati che volevano in qualche modo ribadire continuare questo dogma anzi questa che Calamandrei chiamava una superstizione quella della continuità dello Stato e quindi vedevano il passaggio dal regime fascista quindi dalla legalità statutaria alla Costituzione italiana come un'interrotta catena di legittimazione che passo dopo passo porta a questo profondo mutamento e quindi avevano adottato potremmo dire una strategia di camuffamento della discontinuità sotto queste vesti di continuità e dall'altro verso invece i turisti più attenti più consapevoli del momento costituzionale penso appunto a Mortati e a Calamandrei in primo luogo avevano chiaramente individuato nel decreto legge luogo tenenziale un punto di partenza un punto di svolta un punto di non ritorno rispetto alla legalità statutaria e quindi un momento costituente un esercizio di potere costituente seppure provvisorio e questo direi che è la conclusione a cui si può aggiungere in maniera piuttosto chiara e del resto c'è anche una giurisprudenza che ora forse se ho tempo vi dirò del 47 48 in cui si prende chiaramente nel decreto legge luogo tenenziale del 46 come parametro di legittimità costituzionale una giurisprudenza delle sezioni della Cassazione e del Consiglio di Stato quindi non si può dubitare del fatto che non si è in presenza di un mero decreto legge e però dall'altra parte si hanno una serie di paradossi io nella mia relazione ne ho contati quattro di una serie di paradossi uno l'ha già detto il professor Conti in realtà a cui si giunge se non si vuole ammettere il fatto che il decreto legge luogo tenenziale è un segno un momento costituente e ricordiamo questo momento costituente è stato anche questo descritto bene dal professor Lungester un momento che si ha in una particolare versante della nostra storia quindi dopo il patto di Salerno dopo la liberazione di Roma l'8 giugno del 44 al Grand Hotel si ha una riunione che ha un accordo sostanzialmente tra il CLN e Badoglio e Umberto e poi si ha appunto il primo governo Bonomi che sigla questo accordo ed è bene ricordare che il contenuto di questo accordo era proprio quello che si metterà poi il decreto legge luogo tenenziale del 44 lo scrive molto bene Bonomi nel suo diario nel suo diario ricorda appunto l'8 giugno dopo quando dopo in seguito ai colloqui politici al Grand Hotel si reca al Quirinale la sera da Umberto nella Roma appena liberata dove in un'atmosfera veramente crepuscolare quindi da si percepisce anche la fine di un qualcosa scrive Bonomi nel suo diario il colloquio avviene nello studio del Principe nella penombra di una sera già molto inoltrata non c'è luce elettrica perché tutti i pubblici servizi sono interrotti ebbene in questa atmosfera Bonomi pone tre punti programmatici che sono proprio quelli che verranno recepiti penamente dal decreto legge del 25 giugno le rinvio della questione istituzionale alla fine della guerra l'elezione di un'assemblea costituente e la modifica della formula del giuramento da parte dei membri del governo e poi il potere legislativo temporaneamente affidato solo al governo si avrà poi la prima riunione del consiglio dei ministri il 22 giugno e quindi il decreto legge che in testa reca riferimento all'articolo 18 della legge del 39 e qui appunto il primo paradosso forse questo è quello più facilmente superabile come ha detto il professor Conti perché questa legge del 39 alcuni avevano sostenuto e su questo poi si pronuncerà il consiglio di stato era stata implicitamente abrogata nell'agosto precedente quando il governo Badoglio aveva operato per la defascistizzazione dello stato aveva dichiarato sciolta la camera defasce delle corporazioni quindi se aveva un primo paradosso di una camera defasce delle corporazioni che era stata sciolta questo regio decreto legge del 2 agosto del 43 e però rimaneva in vigore questo articolo 18 della stessa legge notare che poi il regio decreto legge vedeva l'elezione di una camera di deputati quindi sostanzialmente si aveva un'abrogazione implicita quantomeno di una parte di quella della legge del 39 però rimaneva l'articolo 18 che consentiva l'emanazione di decreti legge e poi questo in testa in fondo invece si trova la clausola di conversione l'articolo 6 che era appunto una clausola di forma che era in tutti i decreti reggi decreti legge compariva come del resto compariva in tutti i decreti legge l'articolo 18 quindi si mantiene la forma di quelli che erano i vecchi reggi decreti legge e in questo senso il decreto legge logotenenziale è l'ultimo di questi vecchi reggi decreti che hanno l'articolo 18 in testa della legge del 39 e in calce questa clausola di conversione che ormai era divenuto un mero esercizio di stile in qualche modo una vuota formula e comunque la contiene e sulla base di questo poi ci sarà la vicenda della quindicesima disposizione transitoria notare che in questo articolo 6 non compare almeno io non l'ho visto nella relazione che è raccolta appunto negli atti di Ricci nella relazione illustrativa presentata al Consiglio dei Ministri quindi questo è il primo paradosso se vogliamo un momento costituzionale una fonte del genere che si fonda vuole trovare la sua legittimazione in una legge che non si sa bene se fosse ancora esistente o meno questa legge del 39 aggiungo che poi chi sarà il giurista che più si spese in qualche modo in quegli anni per affermare per ribadire questa continuità Gaetano Azzariti che era stato ministro della giustizia del primo governo Badoglio e che non è da escludere fosse in qualche modo dietro la non-abrogazione della legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ben sapendo che conteneva quell'articolo che consentiva che continuava a consentire la decretazione d'urgenza e Gaetano Azzariti difenderà appunto questa la vigenza dell'articolo 18 rispingendo tutte quelle tesi come opposte come senza fondamento a quali tesi si stava riferendo Gaetano Azzariti beh Azzariti si stava riferendo a una sentenza della Cassazione del 28 giugno del 47 si tratta ed è questa una cosa piuttosto curiosa della una declaratoria di illegittimità costituzionale ed è la prima for probabilmente della della storia repubblicana una una curiosa declaratoria di incostituzionalità in assenza di una costituzione perché siamo ancora nel a luglio del 47 questa sentenza si si situa storicamente nella reazione che si ebbe giurisprudenziale alla legislazione Gullo ai decreti Gullo che come noto furono il primo tentativo di riforma agraria nel paese i decreti Gullo furono dichiarati costituzionalmente illegittimi una prima volta uno di questi decreti o meglio che stabiliva il prezzo del grano nel maggio del 46 dalla Cassazione civile a sezioni unite perché era un decreto ministeriale che non rispettava il decreto legge che aveva a monte che era un decreto legge del 43 questo secondo appunto la giurisprudenza che si era formata e poi arrivata fino alle sezioni uniti della Cassazione Gullo con molta mare ironia dichiarò a proposito ma è come in questo momento strati e categorie sociali ben identificati dimostrano un così vivo senso costituzionale un rispetto così geloso dalle garanzie costituzionali chiaramente questa vicenda si sita in questa forte reazione a questa legislazione che era una legislazione molto contestata e soprattutto avversata diciamo pure dagli agrari il governo allora fece un decreto legge appunto che risale a giugno del 46 e si chiama decreto legislativo chiedo scusa un decreto legislativo presidenziale perché non c'era ancora il capo proprietario dello Stato e in questo periodo si chiamarono assunsero questo titolo che non c'era neanche più il logotenente e la Cassazione dichiarò costituzionalmente legittimo questo decreto in quanto sostanzialmente violava il principio della separazione dei poteri e però per arrivare a questa a questa decisione insomma a questa a questa soluzione sostiene la Cassazione che il decreto logotenenziale del 46 in qualche modo escludeva che il legislatore delegato logotenenziale potremmo chiamare potesse invadere la materia costituzionale e che nella materia costituzionale verrà da ricomprendere anche la separazione dei poteri questa questa costituzione abbastanza spericolata non è interessa però è interessante che si dà per pacifico che il decreto legge logotenenziale del 46 fosse una fonte di rango costituzionale che quindi vincolasse il legislatore e questo lo rilevò molto bene Mortati nella suo volume sulla costituente del 45 dove rilevò questo auto-vincolo che era presente auto-vincolo che scrive Mortati più o meno in quel volume è tipico di cosa del potere costituente è il potere costituente che suggella diciamo un auto-vincolo quindi già Mortati facendo notare questo come dire propendeva faccio propendeva già nel 45 per questa tesi che poi sarà ribadita nel dicembre del 47 nel sede dell'approvazione della quindicesima disposizione transitoria e questa questa valenza potremmo dire parametrica era stata affermata dalla Cassazione sempre a Sessioni Unite in un'altra sentenza di poco prima di due settimane prima circa sempre del 47 che invece riguardava la decadenza di alcuni senatori che era stata pronunciata dall'Alta Corte di Giustizia e questi senatori che erano stati dichiarati decaduti lamentavano l'incostituzionalità di alcune disposizioni di legge che istituivano l'Alta Corte e prevedevano la decadenza delle assemblee legislative erano decreti legislativi locotenenziali del 44 anche qui veniva opposto il limite della materia costituzionale e anche qui le sezioni unite con molta nonchalance accolgono questa prospettazione però notare bene che nel decreto legge del 44 non c'è il limite della materia costituzionale quello verrà inserito solo nel 46 appunto nel decreto legislativo locotenenziale del 98 del 46 la Cassazione scrive questa legge effettivamente ha fatto una netta distinzione tra leggi ordinarie che il governo poteva emanare e leggi di carattere costituzionale che il governo non poteva emanare cosa non vera e infatti Azzariti qui commentando censura alle sezioni unite dicendo no l'unico limite che viene posto è quello di non violare la tregua istituzionale quindi la scelta tra monarchia e repubblica alla fine diciamo che la sentenza più probabilmente convincente che trova appunto poi il plauso di Azzariti è quella del 48 del consiglio di stato che riguardava invece la questione di alcuni funzionari pubblici collocati forzatamente al riposo e qui appunto si faceva valere fra l'altro l'argomento dell'abrogazione implicita della legge del 39 e qui Azzariti commentando da un lato dimostra il suo per così dire continuismo dice beh se dovessimo accedere a questa tesi addirittura la costituzione sarebbe invalida perché in questa idea di catena legittimazione la costituzione tra il fondamento paradossalmente dalla legge sulla camera dei fasci delle corporazioni ma al di là di questo diciamo che il consiglio di stato rimuove diciamo il dubbio del fatto che la materia costituzionale fosse inclusa tra i limiti e respinge questo argomento appunto ribadendo come aveva già fatto Azzariti che l'unico limite espresso era quello della scelta tra monarchia e repubblica che doveva rimanere congelata e quindi la non violazione della tregua istituzionale argomento decisivo scrive il consiglio di stato per igettare tutti questi dubbi e però poi la quindicesima disposizione transitoria che era stata nel frattempo approvata perché questa sentenza del giugno del 48 e quindi questo è un altro di questi paradossi che se da un lato appunto si ha questo continuismo come è stato detto e dall'altro però si riconosce la forza costituente in qualche modo comunque il rango costituzionale di questo decreto legge allora si ha il paradosso per cui per cui appunto la disposizione transitoria della costituzione sana l'illegittimità del decreto su cui la stessa costituzione si fonda quindi un po' come nella storia del barone di Munchausen che si trae fuori da solo dalla palude tirandosi da solo per i capelli e qui direi che chiudo finisco mettendo appunto in luce alcuni paradossi che se presi alla lettera portano delle conclusioni non sostenibili che ci fanno capire molto bene come sia stata una costituzione veramente provvisoria e però intesa come tale come costituzione mi domando pensando a quello che ha detto Gianluca Conte quanto questa provvisorietà poi incidesse sul suo rango costituzionale ci sono stati altri casi di costituzioni nate come provvisorie che però sono rimaste come ad esempio la legge fondamentale in Germania quello che si vede andando oltre poi alla lettura delle fonti si vede che ci fu appunto come è stato descritto finora un momento costituzionale vero e proprio tra l'aprile e il giugno del 44 grazie 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 Edoardo Caterina per averci ricostruito la collocazione nel sistema delle fonti insomma un tentativo di ricollocare nel sistema delle fonti il decreto legge luogo tenenziale 151 del 44 in effetti diciamo si ponevano un po' il problema di dare una continuità con l'ordinamento vigente quindi anche rispettare diciamo le fonti del diritto che erano conosciute e nello stesso tempo di individuare le modalità di un processo costituente che si è voluto comunque diciamo mantenere nell'alveo di una una certa continuità ecco no si sono lo scopo probabilmente era proprio quello di cercare di non creare rotture diciamo eccessive diciamo del sistema ordinamentale bene grazie allora Edoardo e darei la parola a questo punto alla dottoressa Ilenia Maria Citino che è assegnista alla scuola Sant'Anna e che ci parlerà della forma di governo sempre in questo decreto legge luogo tenenziale Buongiorno grazie a tutti grazie innanzitutto al professor Conti per avermi invitato a intervenire anche quest'anno in questo convegno che ha un tema veramente interessante grazie al professor Rossi per questa moderazione che che sta improvvisando oggi devo dire con molta con molta grazia e con molta professionalità sì la mia presentazione è incentrata sul tema della forma di governo della prima costituzione provvisoria spero di non tediarvi ma devo dire che il tema si presta molto bene a scaturire tutta una serie di riflessioni interessanti e in primo luogo secondo me è utile chiarire un po' questo carattere di provvisorietà perché un ordinamento provvisorio nasce come un fatto storico e quindi nasce con tutte le contingenze del fatto storico ma come ha sostenuto Balladore Parrieri in una sua opera non vi è nessuna ineluttabile legge logica per cui debba esistere uno stato piuttosto che un altro quindi bisogna capire perché l'arbitrio degli eventi umani ha portato appunto a quella che noi siamo soliti definire una prima costituzione provvisoria la provvisorietà da quello che ho potuto leggere per scrivere questa ricerca non è derivata tanto dalla circostanza che il complesso delle norme di questa costituzione fosse destinato a restare in vigore per poco tempo quanto piuttosto dal fatto che l'assetto ordinamentale determinato è proprio stato percepito come transitorio e quindi destinato a lasciare il posto ad un assetto invece più definitivo ma ancora da porre in essere e questa è una definizione per esempio che sposa Onida in una voce sulla costituzione provvisoria pubblicata nel Digesto del 1989 ed è appunto ci rende ci manifesta l'idea di questa provvisorietà non derivante da circostanze esterne ma dal fatto che vi sarà una costituzione definitiva un altro problema che ho riscontrato su questo tema è quello della esatta delimitazione del periodo che possiamo definire come prima costituzione provvisoria perché ovviamente non c'è stata una concordanza fra gli autori vi sono visioni più restrittive visioni più ampie ovviamente tutte le mie argomentazioni le lascio alla relazione scritta per chi avrà il tempo di leggerla e oggi mi limito in qualche modo a segnare il perimetro temporale ritengo infatti che rispetto ai ai professori che se ne sono occupati abbiamo visto importanti opere di Calamandrei Mortati Guerino ne abbiamo citati vari oggi rispetto a questi mi sembra più efficace segnare il punto d'inizio con il 18 giugno 1944 cioè la data in cui prese il servizio il governo Bonomi secondo perché questo ovviamente si tratta di una scelta convenzionale però è più convincente questa data una data messa in evidenza da Caretti perché il governo Bonomi secondo fu accettato Bonomi dichiarò di voler accettare l'incarico soltanto a tre condizioni e queste mi sembra interessante esplicitarle adesso uno l'impegno del potere legislativo di sottoporre al popolo la scelta istituzionale dello Stato secondo me questa è una cesura importante quindi si chiese di domandare adesso di eleggere un'assemblea costituente due Bonomi chiedeva anche la modifica della formula del giuramento quindi il giuramento non doveva più essere prestato nelle mani del re ma della nazione questo poneva la premessa di un importante cambiamento non solo formale a mio avviso contestualmente chiedeva l'obbligo di formalizzare l'impegno da parte dei ministri a non compiere atti che potessero pregiudicare la soluzione della questione istituzionale quindi è effettivamente l'inizio di una fase di transizione e infine il governo quindi il governo Bonomi 2 avrebbe dovuto a partire da quel momento assumere su di sé il potere legislativo quindi si instaura una specie di dittatura perché? perché le camere non potevano funzionare in quel periodo questa dittatura velata sarebbe durata ovviamente fino all'entrata in vigore della nuova costituzione quindi secondo me il 18 giugno del 1944 configura quello che diciamo nelle parole di Bruce Ackerman si potrebbe definire un constitutional moment cioè un fatto costituzionale di estremo rilievo ovviamente l'elemento dittatoriale va in qualche modo come dire diluito con la costatazione che vi erano anche dei partiti democratici che erano emersi dopo la fine del fascismo CLN che impongono riescono a imporre questi principi dettati da Bonomi alla corona proprio per la formazione del governo questi principi che addirittura secondo un autore illustre Bonvalsassina acquisiscono validità costituzionale in via di fatto e vengono solo dopo formalizzati nella prima costituzione provvisoria abbiamo stabilito la data di inizio di questa forma di governo che andrò ad analizzare e ovviamente occorre adesso delineare anche la data di una potenziale fine e questa è più facile perché ovviamente coincide con il 16 marzo 1946 data nella quale viene emanata la seconda costituzione provvisoria in questo torno di tempo si avvicendano quattro governi Bonomi 2 Bonomi 3 il governo Parri e il governo De Gasperi quindi in questa prima fase si suole identificare il periodo della luogotenenza avendo adesso chiarito il periodo che ci interessa andrò ad esaminare nel tempo che mi resta la posizione costituzionale dei vari organi nell'ordinamento provvisorio e poi andrò ad analizzare ulteriori elementi che pur non essendo formalmente di rilievo costituzionale a mio avviso vanno a caratterizzare la forma di governo provvisoria e questo ovviamente al fine di trarre alcune conclusioni per quanto riguarda la corona quando si parla di corona bisogna guardare sia alla posizione giuridica costituzionale del re che però anche del luogotenente perché nella forma di governo della prima costituzione provvisoria si determina un'anomala sovrapposizione di ruoli non vado qui a discutere le particolarità e le anomalie della luogotenenza anomalie e particolarità che derivano dal suo distaccarsi rispetto alla prassi precedente però mi limito a segnalare una circostanza secondo me molto interessante ossia il fatto che il re non può in alcun modo in quel periodo riassumere le proprie funzioni c'è un blocco fondamentalmente congelato perché perché se no avrebbe dovuto contraddire la propria scelta di ritirarsi dalla vita pubblica quindi il re ha affidato tutte le proprie funzioni a un luogotenente non può restringere l'estensione dei poteri affidati e la stessa qualifica di luogotenente non corrisponde alla realtà alla sostanza del rapporto che si svolgeva effettivamente perché non teneva luogo del sovrano ma c'era un sovrano congelato quindi bisogna semmai andare a pensare al sovrano come dotato di una sola competenza a mio avviso ossia il fatto di eventualmente andare a revocare la funzione di luogotenente per darla a qualcun altro e quindi si capisce benissimo l'espressione usata da Amort che parla di re non regnante mi sembra un'espressione molto efficace andando ad esaminare quindi il luogotenente come capo di stato è chiaro però che l'estensione dei poteri del luogotenente non può essere comparabile all'estensione dei poteri di un sovrano pieno e quindi il luogotenente non può in quel periodo esercitare pienamente le prerogative del sovrano e non avrebbe mai potuto realizzare quello che Sonnino avrebbe definito un ritorno allo statuto quindi non avrebbe mai potuto scegliere un governo di propria iniziativa era ovviamente indebolito dalla presenza di un elemento fattuale che discuteremo fra poco sia i comitati di liberazione nazionale il parlamento il parlamento in questo periodo storico non funzionava era stata dichiarata chiusa la trentesima sessione parlamentare con lo scioglimento della camera dei fasci e delle corporazioni nel 1943 nell'agosto lo stesso decreto 705 disponeva nuove elezioni e la convocazione di una camera dei deputati sarebbe dovuta avvenire quattro mesi alla fine della cessazione delle ossilità e su questo tra l'altro mi piace citare un'interessante metafora di Calamandrei per cui secondo l'autore la monarchia si era illusa che entro quattro mesi fosse stato possibile imbiancare la facciata dell'edificio costituzionale per continuare a godere in maniera inalterata del proprio potere ovviamente la storia e i fatti ci hanno dimostrato che questo non era possibile però in quel momento appunto essendo stata abrogata la disposizione c'era un contrasto con l'articolo 9 dello statuto ai sensi del quale il re è obbligato ogni anno a convocare le camere e a prorogarne le sessioni le camere non erano convocabili però ci sarà in qualche modo una uno simoro perché poi invece a un certo punto viene nominato un ufficio di presidenza del senato un ufficio di presidenza della camera di un organo non esistente ne parleremo più avanti se resta tempo andando ad esaminare invece i comitati di liberazione nazionale questi rivestono un ruolo nella forma di governo della prima costituzione provvisoria forse più importante appunto di questo parlamento impossibilitato a funzionare perché è con i comitati che il governo interloquiva per svolgere niente poco di meno che la funzione di indirizzo politico dopo la liberazione di Roma infatti era in qualche modo evidente che il governo non sarebbe più stato responsabile nei confronti del re un organo costituzionale ormai depotenziato abbiamo detto congelato ma verso questi comitati e quindi Guarino parla di questa circostanza come di una sorta di parlamentarismo in nuce a me non sembra corretto con tutto rispetto per Guarino perché comunque appunto il Parlamento non c'era quindi CLN sono organi di fatto non possono essere definiti non possono essere accostati al parlamentarismo però la circostanza importante è appunto il fatto che viene eliminato quel ruolo di primazia del duce e il capo del governo a partire dal terzo governo Badoglio quindi un governo prima rispetto al nostro periodo si caratterizza come un primus inter pares e quindi si affievolisce invece il ruolo dei singoli ministri facendo tesoro di quanto appena detto allora posso evidenziare a questo punto il ruolo del capo dello Stato in questa forma di governo che pur avendo ovviamente una sua autorità un suo prestigio non poteva essere ritenuto secondo me un organo costituzionale distinto rispetto al gabinetto così come era il duce sotto il fascismo perché banalmente non poteva formulare un indirizzo politico proprio come invece poteva il duce e appunto il consiglio dei ministri era tornato ad essere collettivamente responsabile e questo lo vediamo formalmente tradotto in un reggio decreto il 136 del 44 che cambia la formula anche negli atti ufficiali dove non si parla più di capo del governo ma di presidente del consiglio dei ministri quindi un segnale proprio che si sta cambiando la posizione costituzionale dell'organo tutto nel segno della continuità appunto non ci sono brusche rotture capo del governo sì mi scuso finita questa rapidissima carrellata vado ad aggiungere però tre elementi che rilevano nella forma di governo della prima costituzione provvisoria il primo l'ho già menzionato è dell'esperienza cielenistica che in qualche modo appunto fa le veci di un parlamento inesistente questi CLN appunto furono spesso chiamati a svolgere delle funzioni primarie immediate di governo tutte ovviamente in via di fatto tutte caratterizzate da una diversa intensità a seconda del periodo storico e della zona d'Italia al sud e al nord ebbero un ruolo completamente differente un secondo elemento secondo me dal quale si possono trarre considerazioni interessanti lo farò nella mia relazione scritta sono i condizionamenti interni e internazionali in particolare il ruolo di fatto anticipatorio rivestito dal governo militare alleato perché dettò la sorte dei successivi compromessi costituzionali quindi fu una funzione di fatto importante da considerare ed è agli alleati che dobbiamo il riconoscimento del ruolo costituzionale dei CLN nel meridione e infine un terzo elemento prendendo spunto da Calamandrei è la tormentosa lentezza della guerra di liberazione costituzionale anche questo secondo me è un elemento che ha inciso sulla costituzione perché questo faticoso svolgimento rese inevitabile il fatto di dover procedere a un governo a una forma di governo provvisoria e non a un governo immediatamente funzionante è privo di precarietà così come invece la fase provvisoria è connotata giungendo alle conclusioni dunque appunto parlare di forma di governo in questa fase significa analizzare le regole alla base dei rapporti fra gli organi che costituivano la struttura di vertice dell'apparato statale rispetto al gabinetto Badoio che era un'autorità di fatto tu scrisse lungamente di questo quelli sul diritto costituzionale provvisorio e transitorio Crisa Fulli parlava del governo Badoio come un governo tipico da colpo di stato invece bisogna capire questo è il quesito finale della mia riflessione se la forma di governo della prima costituzione provvisoria fosse una restaurazione pura e semplice nel regime statutario prefascista oppure no e secondo me la risposta a questa domanda è facile no si tratta di un regime diverso perché viene a mancare un organo costituzionale essenziale cioè il Parlamento la cui ricostituzione funzionante veniva rinviata ad un momento successivo allo stato di guerra e residuava questo senato che rappresentativo non era perché era stato depurato dei suoi membri ovviamente non era riconvocabile in parallelo e poi infine c'era questa situazione strana del luogotenente che ovviamente era nuova rispetto al precedente statuto quindi questa forma di governo magari si può definire una diarchia innanzitutto perché c'era un dualismo fra l'apparato governativo preesistente che era mantenuto e questa immersione dei CLN che invece era un nucleo magmatico in continuo di venire che cercava di influire sull'assetto costituzionale però è un nucleo importante perché è rappresentativo non rappresentativo per il frutto di elezioni perché ancora le elezioni non c'erano ma per il frutto per essendo la conseguenza di un movimento spontaneo sorto dal basso e quindi rispetto alla forma di governo della prima fase che magari era una monarchia costituzionale pura secondo me qui è più ragionevole sostenere che si siano sviluppati i lineamenti di un governo monarchico rappresentativo limitato cioè limitato dai CLN concludo qui tagliando i profili legati al rapporto Stato-Cittadino e Libertà che sono anche questi altamente interessanti e mi limito a ringraziare ancora una volta per l'ascolto che avete dato a questa mia relazione grazie per avere ricostruito puntualmente questa fase questa vicenda insomma quale forma di governo a seguito della costituzione provvisoria e credo sia fondamentale come giustamente è stato sottolineato il ruolo di questo CLN insomma di questa forma diciamo non istituzionale ma che si è istituzionalizzata non attraverso un riconoscimento giuridico formale oggi qualcuno direbbe che non li ha eletti nessuno e quindi che proprio per questo non dovrebbero essere rappresentativi ma in realtà insomma una rappresentatività a questi se la sono garantita sia diciamo in relazione alla loro autorevolezza eccetera ma sia per la guerra di resistenza che anche probabilmente per l'appoggio internazionale insomma che ha indotto a spingere in questa direzione però certo questo è dal mio punto di vista è uno degli elementi maggiormente di interesse no proprio la diciamo funzioni istituzionali svolte da soggetti non istituzionali come poi sarebbero i partiti politici in realtà però qui erano funzioni istituzionali e ancora più diciamo pregnanti perché in qualche modo decidevano e determinavano la forma di governo va bene grazie alla dottoressa Citino e allora passiamo al dottor Giulio Santini allora Giulio Santini che è stata a Magna Pars insomma nell'organizzazione di questo seminario ma ora si offre a noi in veste di relatore e in particolare tratterà il tema del rapporto tra questa costituzione provvisoria e le costituzioni tra virgolette perché insomma sono i tentativi di costituzione credo che si intendano del del movimento partigiano e il difficile in tarso prego grazie grazie ringrazio il professor Rossi e il professor Conti per aver reso possibile questo questo evento e ringrazio tutti voi per essere qui e per le cose insomma con cui avete saputo arricchire questa questa bella giornata di studi allora inizio anch'io dal giustificare un po' il titolo che ho scelto il titolo è costituzione provvisoria e costituzione partigiane un difficile in tarso per costituzione provvisoria naturalmente intendo innanzitutto individuare l'intorno temporale diciamo forse anche un po' più ampio di quello che diceva Elenia prima e che coincide in sostanza con l'intera esperienza del periodo transitorio e per costituzione partigiane fra virgolette intendo da un lato quello che è stato il movimento politico coordinato e espressione del comitato di liberazione nazionale nell'alta Italia il comitato di liberazione nazionale alta Italia sia su una scala territoriale e anche cronologica più contenuta quelle che sono state le esperienze di autogoverno nell'Italia settentrionale e che in taluna occasione hanno assunto anche un profilo politico anche assiologico originale rispetto a quello generalmente inteso dal comitato di liberazione nazionale alta Italia un difficile intarsio perché da un certo punto di vista è un intarsio difficile da ricostruire sia perché come vedremo subito i dati di diritto positivo sono frammentari e certamente la gazzetta ufficiale non offre una risposta a tutte le domande che ci si possono fare su questo tema ma anche un difficile intarsio perché è un intarsio difficile da interpretare proprio in ragione di questa informalità fluidità di rapporti di contatti interistituzionali non è facile emergere che emerga che si possa cogliere una chiave di lettura unitaria e una chiave di lettura soprattutto che sia pienamente soddisfacente per questa mosaica diciamo così che continua a interrogarci e appunto come dicevo il dato di diritto positivo è un dato abbastanza abbastanza frammentario ma che vale la pena essere richiamato anche su un periodo di tempo piuttosto lungo diciamo fino al 1948 addirittura troviamo una serie di atti estremamente interessanti e questi atti ci fanno un po' ci presentano un po' un quadro che ora mi perdonerete diciamo l'ardire però assomiglia un po' a quel percorso che in generale le nuove formazioni sociali partiti politici hanno presentato davanti alla preesistente realtà dello Stato nella ricostruzione alla Tribel quindi abbiamo proprio un inizio diciamo dopo il 25 luglio ma anche dopo l'8 settembre di Bekanfung cioè di ostilità manifesta nel governo Badoglio nell'esperienza del primo governo Badoglio non solo non si considera il movimento partigiano ma anche il pluralismo partitico è qualcosa che assume una considerazione certamente un po' deteriore e questo si riflette in particolar modo sulla persistenza delle disposizioni in materia di libertà di stampa e di ordine pubblico che sono compromesse almeno fino all'inverno 1943-1944 poi c'è una fase diciamo di stabilizzazione di in qualche modo inizio di un coordinamento che coincide anche con la nascita e l'istituzionalizzazione del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia 7 febbraio 1944 che appunto in questo percorso è un po' la ignorierung alla Trife e poi si ha invece proprio con la Costituzione Provisoria in senso stretto un movimento prima di legalizzazione legalisirum e poi di incorporazione proprio dell'idea di governo espressa dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia nella architettura istituzionale provvisoria ma sempre più in via di consolidamento e infatti appunto la risposta del diritto positivo è una risposta che non vede la menzione proprio del tema della lotta di resistenza nel diritto positivo in atto almeno diciamo di qualche importanza fino al decreto legislativo luogotenenziale del 9 novembre 1944 numero 319 che è interessante perché nell'istituire una commissione nazionale e un ufficio per i patrioti dell'Italia liberata in realtà li configura le cito dall'articolo 2 del decreto li configura con il compito di studiare studiare quindi non ancora diciamo affrontare una chiave politica ma ancora una chiave conoscitiva i problemi riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo e di promuovere i necessari provvedimenti e questa commissione ha risieduto presso la presidenza del consiglio dei ministri abbiamo però già circa un mese dopo il decreto luogotenenziale del 12 dicembre 1944 che istituisce il ministero per l'Italia occupata decreto luogotenenziale del 12 dicembre 1944 le cui attribuzioni sono poi disciplinate con il successivo decreto 28 febbraio 45 numero 73 e qui invece c'è l'inizio di un rapporto di una interlocuzione il ministero dell'Italia occupata che è affidato diciamo per tutta la sua breve esistenza al comunista a Scocci Marro sottosegretario invece il liberale Dovrando Medici torna 15 il ministero dell'Italia occupata provvede nei riguardi del territorio occupato per il tramite ed in collaborazione con la commissione alleata il comando delle forze alleate questo è un elemento molto importante su cui ritorneremo all'intensificazione della lotta e alla difesa degli interessi nazionali contro i tedeschi invasori e contro i fascisti che con essi collaborano cosa è successo fra il 12 dicembre istituzione del ministero e il 28 febbraio è successo che ancora in una logica di bilateralità c'è stata la cosiddetta delega del governo di poteri al comitato di liberazione alta Italia 26 dicembre 1944 il governo italiano riconosce il comitato di liberazione nazionale alta Italia quale organo dei partiti antifascisti nel territorio occupato da il denegra il CNAI a rappresentarlo nella lotta contro i fascisti tedeschi e il CNAI per parte sua accetta di agire a tal fine come delegato del governo italiano il quale è riconosciuto dai governi alleati come successore del governo che firmò le condizioni di armistizio ed è la sola autorità legittima in quella parte d'Italia che è già stata o sarà in seguito restituita al governo italiano dal governo militare quindi ancora fino all'inizio del 1945 quindi per la maggior parte dal punto di vista cronologico dell'esperienza della guerra c'è comunque a me sembra abbastanza evidente un'idea di alterità che poi in realtà viene meno viene meno sin dall'aprile 1945 quando in primo luogo viene riconosciuta l'immunità per tutti i fatti di guerra compiuti dai partigiani diciamo nella propria attività di liberazione e quindi questo li assimila alle forze armate di fatto cosa che poi sarà ulteriormente sancita con decreto decreto legislativo del capo provvisore dello Stato 16 settembre 1946 che equipara i gradi militari dell'esercito a quelli dei partigiani che abbiano svolto attività per almeno tre mesi o che siano caduti e poi in realtà il vero punto di svolta forse è quando si riconosce che nell'ambito della composizione della consulta nazionale decreto legislativo 12 luglio 1945 ciascuno dei partiti che costituiscono il CLN designerà 11 consultori sentiti comitati provinciali di liberazione della regione e le direzioni centrali dei partiti che costituiscono il CNAI designeranno in ragione di uno per partito 5 consultori scelti tra coloro che fecero parte del comitato predetto nel periodo in cui esso fu delegato a rappresentare il governo nel territorio occupato dal nemico e faranno altresi parte della consulta coloro che in tale periodo hanno diretto il CNAI quindi a questo punto direi forse avviene l'incorporazione ma l'ultimo aspetto che vorrei sottolineare in questo itinerario che mi sembra interessantissimo e anche attuale è quello che avviene con il decreto legislativo siamo già in età repubblicana del 19 aprile 1948 norme per l'assunzione e la liquidazione da parte dello Stato dei debiti contratti dalle formazioni partigiane ai fini della lotta di liberazione ne richiamo l'articolo 1 insomma in cui si accetta diciamo così di farsi carico di tutte le spese per i danni di guerra causati dai partigiani e questo evidentemente in uno schema di accollo ora noi perché dico attuale perché noi abbiamo conosciuto in anni molto recenti invece uno schema diciamo antitetico che è lo schema espromissorio in cui lo Stato italiano si fa con la norma Ristori insomma che è stata anche vagliata di recente dalla Corte Costituzionale garante del debito che sarebbe da riconoscere in capo alla Germania per i crimini contro l'umanità che sono stati commessi durante l'occupazione quindi diciamo nel primo caso in qualche modo si accerta con questo o si rafforza l'idea che c'è stata una continuità funzionale direi fra le truppe partigiane e il governo dell'Italia già liberata e invece nel secondo e più attuale caso si attesta in qualche modo una responsabilità storica che il Stato italiano comunque porta per aver dato luogo nella sua versione pre-8 settembre alle condizioni che poi si sono si sono rivelate foriere di crimini e violazioni dei diritti fondamentali ma questo valga veramente come parentesi e da qui diciamo si può si può iniziare a evidenziare come questa alterità sia un'alterità non soltanto di diritto non soltanto rivendicata per ragioni e qualche misura formali o di diffidenza ma anche un'alterità sostanziale su questo mi soffermerò molto in fretta perché è un tema molto sviluppato e su cui sarebbe abbastanza difficile in questo breve tempo dire qualcosa di originale però mi sembra di poter sottolineare che nei modelli di governo soprattutto delle repubbliche partigiane che sono circa 20 modelli con differenze tra ciascuno di essi emergono tre elementi di novità molto forte che contrappongono la forma di stato repubblica partigiana alla forma di stato costituzione provvisoria il primo è naturalmente il rafforzarsi diciamo così di un'idea di pregiudiziale repubblicana c'è anche un nome che certamente non trova una condivisione del tutto unanima ma che è più forte di quello che poteva essere invece il clima della tregua istituzionale dopo la svolta di Salerno il secondo è un'attenzione forte alla valorizzazione delle istanze municipali delle istanze locali e di un pluralismo sociale insomma che poi troverà magari anche un'attuazione più lenta dopo l'entrata in vigore della Costituzione ma che è molto forte invece nel pensiero e nei documenti del periodo delle repubbliche partigiane e in terzo luogo ma non meno importante anzi forse più importante di tutti l'affermazione embrionale poi ce ne parlerà oggi pomeriggio penso più ampiamente Teresa Andreani di un nucleo di diritti sociali intesi in questo caso come prestazioni in clima emergenziale quindi se uno ripercorre i documenti delle forze della resistenza una delle l'attenzione fondamentale forse che loro hanno è la gestione ordinata del razionamento alimentare prima di tutto e poi di una serie di altre prestazioni quindi si può dire forse che proprio il nucleo storico diciamo l'embrione storico di poi quella che è stato l'inveramento nella carta costituzionale vigente deriva da un'esigenza contingente cioè quella di assicurare la sopravvivenza in vita della popolazione in un periodo di ristrettezza alimentare e materiale allo stesso tempo però la forza ideale politica ordinamentale delle formazioni partigiane al nord e poi delle loro espressioni istituzionali non è soltanto una forza contrastiva diciamo così ma è una forza invece che tende a voler assicurare la continuità in qualche modo non soltanto di un ordinamento a un livello più semplice appunto come quello che abbiamo appena evocato ma anche dell'ordinamento politico dello Stato e questo insomma è stato sottolineato questa contraddizione forse per primo già in epoca resistenziale proprio da protagonista della resistenza come Riccardo Lombardi che sottolineava come il vero problema politico della resistenza è la contraddizione tra continuità e rottura continuità che naturalmente si rafforza nel dialogo con gli alleati perché è una continuità che viene avversata come diremo fra un attimo ma che in effetti trova poi l'appoggio delle formazioni diciamo militari angloamericane che riconoscono comunque un pregio diciamo alle azioni della resistenza e con questo la rafforzano anche nei confronti del governo del sud e il caso più significativo è più famoso e che mi piace richiamare qui è quello di quello che succede l'11 agosto 1944 per la liberazione di Firenze quando gli alleati entrano in città e trovano già ricostituite e funzionanti la giunta comunale il sindaco la giunta provinciale o deputazione forse e il presidente della provincia quindi e li riconoscono e questo assicura una continuità che poi si proietta fino alle prime elezioni nel 1946 del governo locale e questo naturalmente rafforza la posizione della resistenza e in qualche modo segna proprio una svolta come è stato osservato nei rapporti con le formazioni alleate e a questo si aggiunge un altro problema che accenno soltanto anche qui quello dei prefetti politici prefetti politici che comunque rappresentano una forza in qualche modo non sempre gradita al governo romano ma che rimangono in carica e la cui figura poi finisce per consolidarsi anche grazie alla diciamo così alla fiducia che viene loro attribuita dalle truppe di occupazione alleate e arriviamo ora in conclusione di questo di questo breve intervento a qualche considerazione più generale in tema di interpretazione di recente un libro che è anche circolato molto che ha un titolo molto evocativo l'estate che imparavamo a sparare di Filippetta ha teorizzato che il vero senso costituzionale dell'esperienza resistenziale non è tanto o solo quello di essere la proiezione nell'alta Italia di un indirizzo politico o dei CLN quello che è stato ricordato prima da da Ilenia ma quello di una vera e propria difesa anzi ricostituzione riaffermazione della statualità della statualità in termini soprattutto di ordinata ordinato e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa questo contrapposto invece nella tesi anche portata all'estremo forse di questo autore all'arbitrio che invece caratterizzava sia le forze di occupazione tedesche sia anche l'azione dei pubblici poteri della Repubblica Sociale e in questo senso si può affermare insomma che siamo anche oltre appunto nella tesi dell'autore quel sinallagma fra occupazione quindi privazione di libertà e comunque sicurezza che si assicura alle popolazioni locali che è ciò che garantisce la tenuta delle in generale dei regimi di occupazione secondo la teoria classica e Filippetta appunto sostiene che è stata è stata un'affermazione molto forte di sovranità e di statualità ma la lotta per la statualità la lotta per la sovranità e anche inevitabilmente lotta per l'indirizzo politico e quest'ultimo profilo illumina un po' una contraddizione perché se l'indirizzo politico è definizione espressione e giuridificazione di fini istituzionali da un punto di vista logico esso vive in una dimensione che è eminentemente pubblica eminentemente licita invece qui il problema diciamo che si presenta all'attenzione dell'interprete è quello dell'indirizzo politico segreto e qui richiamo il documento programmatico del partito d'azione però rivolto a tutte le forze cellenistiche firmato da Lombardi Foa e Spinelli alla fine del 44 il TNAI dichiara sin dovera di essere il governo segreto straordinario dell'alta Italia ed ordina a tutto il popolo di riconoscere come soli ordini pubblici quelli che esso ha investito e investirà quindi questa contraddizione in realtà è però consustanziale proprio alla natura della lotta ecco che abbiamo sia una lotta per l'indirizzo politico sì però è una lotta , è una lotta clandestina e quindi anche l'indirizzo politico è un indirizzo politico clandestino e da ultimo vorrei chiudere con un'immagine un po' provocatoria che ho già avuto modo di sottoporre al professor Conti e forse ad altre persone che sono qui presenti e che però in qualche modo mi sembra molto suggestiva il 28 dicembre 1943 il padre fondatore ideale forse dell'indirizzo politico nel termine della filosofia idealistica quanto Gentile invita gli italiani alla concordia un'unità repubblicana diciamo così e il 15 aprile 1944 l'omicidio di Giovanni Gentile a Firenze e questa diciamo immagine che è un po' l'uccisione del vecchio indirizzo politico monolitico unitario e idealistico è un'immagine che apre paradossalmente al pluralismo della resistenza perché è un'azione che insomma desta una forte polemica all'interno del comitato di liberazione e allora forse in questo passaggio e in quella polemica c'è l'inizio della nuova era dell'indirizzo politico cioè dell'era dell'indirizzo politico della Repubblica dei partiti grazie grazie a Giulio Santini per come sempre le sue acute considerazioni e la sua attenzione alla alla storia costituzionale e questi quando ho parlato un po' dei tratti comuni dei venti modelli delle Repubbliche partigiane insomma si può osservare come poi sono quelli che sono entrati nei primi 12 articoli della Costituzione insomma alla fine poi il rafforzamento della pregiudizia repubblicana naturalmente dall'articolo 1 i diritti sociali dall'articolo 3 e 4 in avanti le autonomie locali l'articolo 5 e quindi insomma come poi questi si siano appunto tradotti mentre mi ha un po' fatto riflettere questo decreto legislativo se ho ben capito è del 19 aprile del 1948 quello di cui parlava sì che quello quindi il 19 aprile vuol dire il giorno dopo le elezioni del 18 aprile evidentemente era stato preparato prima insomma il 19 sarà la data di emalazione insomma è interessante che in quella temperie delle elezioni del 1948 insomma qualcuno si dedicasse o il governo si dedicasse a una promessa elettorale forse era anche esattamente aveva anche uno scopo propagandistico bene allora grazie e sentiamo allora l'ultima ma non ultima naturalmente relatrice di questa mattina la dottoressa Silvia Filippi dell'Università di Perugia che ci parlerà del passaggio dalla prima alla seconda costituzione provvisoria buongiorno a tutti anche io mi unisco ai ringraziamenti sia al professor Conti per l'organizzazione e l'invito al seminario al professor Rossi accogliendo l'occasione di questo anniversario per soffermarmi sugli snodi del processo costituente nel periodo compreso appunto tra la prima e la seconda costituzione provvisoria con l'obiettivo di appunto riflettere sulla configurazione del processo costituente nella transizione costituzionale italiana nell'intento di illuminare una serie di passaggi che ancora non smettono di interrogarci in particolare il riferimento alla questione della continuità e dello stesso potere costituente la prima costituzione provvisoria come abbiamo già visto cristallizza il compromesso raggiunto con il patto di Salerno e disciplina i poteri e rapporti tra gli organi supremi dello Stato durante il periodo transitorio e provvisorio periodo che è stato definito da Calamandrei appunto limbo costituzionale in un suo lavoro del 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 45 sui contenuti della prima costituzione provvisoria già è stato detto ampiamente dunque per tornare a Calamandrei la carta afferma che la carta costituzionale provvisoria di questo periodo rappresenterebbe un decisivo punto di rottura con il passato in primo luogo perché invita a confrontare i provvedimenti legislativi adottati dal governo Badoglio nel periodo compreso tra il 25 luglio e l'8 settembre del 43 con quelli poi adottati dai governi successivi costituiti dopo la liberazione da cui emergerebbe e cito una netta divergenza di direttive costituzionali in quanto i primi erano diretti alla restaurazione della monarchia e delle forme statutarie anteriori al fascismo mentre i secondi hanno aperto il varco al rinnovamento della costituzione da compiersi fuori da ogni vincolo giuridico con le forme istituzionali del passato quindi questa proclamazione di discontinuismo e la pia illusione da lui definita come tale di una continuità istituzionale in realtà vanno messi in prospettiva come anche di recente affermato in un lavoro della professoressa Bindi infatti questa è un'interpretazione che trova il suo fondamento in una scelta politica che si concreta nel riconoscimento di un'unica e intera sovranità al Comitato di Liberazione Nazionale infatti bisogna comunque tener conto del fatto che la monarchia esiste ancora seppur nella forma se vogliamo depotenziata della luogotenenza e resta fermo che il luogotenente e non il CLN conferisce l'incarico ai governi formatisi anche dopo il giugno del 44 da una parte si è affermato che appunto l'adozione della costituzione provvisoria ha inaugurato un ordine costituzionale nuovo provvisorio e precostituente che quindi denota l'impraticabilità di un ritorno all'assetto prefascista con la conseguenza di pervenire a uno svuotamento dello statuto e in particolare del suo contenuto essenziale in quanto l'ordine legale che veniva espresso dallo statuto non corrispondeva più all'ordine effettivo dei poteri però anche qui bisogna fare i conti con il fatto che lo statuto non può essere considerato definitivamente accantonato se si pensa anche come ricordava il professor Conti e il professor Lanchester all'inizio che nel maggio del 46 una volta che il re abitica il luogotenente diventa re quindi seguendo le regole statutarie quindi possiamo dire che la prima costituzione provvisoria prende atto di una specifica situazione politico-costituzionale dandogli una disciplina e infatti da una parte viene previsto che alla fine della guerra appunto spetta l'assemblea costituente redigere la costituzione e dall'altra cerca di mantenere stante comunque il controllo delle forze alleate non dimentichiamo un equilibrio costituzionale tra monarchia o meglio logotenenza e governo formato ai partiti del CLN va sottolineata quindi la persistente continuità dal punto di vista formale come evidenziato anche prima Edoardo Caterina con il vecchio ordinamento però a questa apparente continuità formale si accompagna anche una discontinuità sostanziale tanto è vero che appunto il decreto legge logotenenziale 150 del 44 viene chiamato costituzione provvisoria e peraltro anche questa presunta regolarità formale è stata messa in dubbio da diversi autori Silvenzia Giannini che appunto al di là della denominazione sosteneva che quegli atti avessero un valore legislativo e quindi sarebbero stati si sarebbe dovuto definirli come leggi oppure come amato che invece li definisce atti normativi straordinari tuttavia appunto in questa fase sembra prevalere l'intento come anche diceva il professor Rossi a margine di una delle relazioni evitare una rottura manifesta e rivoluzionaria quindi ciò era interesse da una parte della monarchia ma anche di alcuni partiti quali la democrazia cristiana come dimostrano ad esempio anche gli interventi in assemblea costituente di De Gasperi del luglio del 46 o di Riccio nel settembre del 46 infatti anche quelle forze che per principio appoggiano delle soluzioni di rottura con la situazione precedente appunto come il richiamato Calamandrei in un contesto estremamente complesso hanno accettato delle soluzioni di compromesso che sono state appunto poi consacrate a una veste giuridica mortati sarà piuttosto critico invece su questo assetto affermando in un lavoro che si chiama sui limiti dell'attività della costituente del 46 che l'espediente del ricorso all'istituto in ordinamento cessato a cui si è dato vita con l'atto legislativo del giugno 44 è una tipica espressione di quell'attitudine tutta italiana di conciliare l'inconciliabile attitudine che può anche rendere buoni servizi ma che è anche indice dell'assenza di forti convinzioni debolezza di carattere e di paura della responsabilità una situazione del genere quindi si presta a diverse letture da una parte vi è che è sostenuto che il dualismo e quindi la coesistenza e questo è calasso di una legalità nuova col comitato di liberazione portava era portava con sé anche una legalità vecchia sopravvissuta un mondo che crollava situazione questa in cui i comitati erano difficilmente collocabili perché da una parte non erano riconducibili allo schema dell'ordine giuridico preesistente perché appunto è proprio quell'ordine che mettono in discussione e nemmeno agli schemi di un ordine giuridico futuro perché esso stesso dichiara di essere la matrice di questa nuova creazione quindi sebbene gli alleati continuino a fare riferimento al vecchio ordinamento e ci sia chi come pavone più radicalmente sostiene addirittura una continuità dell'ordinamento giuridico statale sostenendo che nella costituente prima né la repubblica poi l'avessero definitivamente lacerata va dato atto del fatto che al di là appunto della continuità sul piano economico sociale ma anche per alcuni versi giuridico non porta con sé automaticamente che non ci sia una rottura sul piano costituzionale e infatti si può ritenere che dal punto di vista materialmente costituzionale nel periodo compreso tra il 43 e il 48 si sia verificata una rottura di ordine costituzionale rispetto al regime liberale ma anche con quello fascista poi con la seconda costituzione provvisoria siamo ancora in quella situazione di cui diceva Mortati di conciliare l'inconciliabile allora in primo luogo brevemente la seconda costituzione provvisoria segue alla crisi del governo Parri alla nomina del primo governo di Gasperi e quindi viene adottato il decreto legislativo 98 del 46 che si può una integrazione e modifica del precedente in questa fase l'attività del governo di Gasperi si orienta verso il consolidamento di una politica di normalizzazione che è voluta non solo dai liberali e da ampie fasce della democrazia cristiana ma soprattutto dagli alleati la principale modifica prevista dalla seconda costituzione provvisoria consiste nella sottrazione della decisione sulla questione istituzionale all'assemblea costituente per attribuirla al popolo le ragioni di questo cambiamento sono dovute al fatto che alcuni partiti tra cui in primis la democrazia cristiana preferissero assumere una posizione neutrale all'avvicinarsi delle elezioni per la costituente in quanto la posizione favorevole alla repubblica non era condivisa da molti dei loro elettori e se fosse aspettato appunto alla costituente pronunciarsi sulla forma istituzionale ogni partito avrebbe dovuto dichiarare come avrebbero votato i deputati eletti alla costituente pertanto è stato quindi previsto che il 2 giugno 46 sarebbe votato per monarchia o repubblica e poi per la lista del del partito secondo il ministro per la costituente Nenni la seconda costituzione provvisoria avrebbe posto non tanto una limitazione dei poteri dell'assemblea quanto una divisione del lavoro tra assemblea e governo pertanto emerge da una parte un'assemblea costituente che in determinati casi si atteggia anche a parlamento verso il quale il governo era politicamente responsabile però in quanto il potere legislativo è diviso tra assemblea e governo poiché appunto il potere legislativo rimane al governo ad eccezione delle materie cosiddette costituzionali che spettano all'assemblea tale impostazione sarebbe stata adottata sulla base della giustificazione per cui attribuire il potere legislativo interamente all'assemblea avrebbe significato ostacolare i lavori preparatori della costituzione beh in realtà voleva evitarsi che nel caso in cui fosse uscita dalle urne una maggioranza di sinistra la costituente sarebbe stata nelle condizioni di servirsi dei suoi poteri per instaurare un governo di assemblea pertanto già che nelle previsioni e la seconda costituzione provvisoria era stata effettuata questa suddivisione inerente al potere legislativo si rintraccia quindi non solo una divisione del lavoro ma anche una limitazione dell'attività stessa dell'assemblea quindi rispetto alla previsione dei limiti alla costituente che sono posti alla seconda costituzione provvisoria ci si è chiesti se ci si trovasse di fronte Dogliani utilizza ad esempio l'espressione di un assurdo giuridico coperto dalla giustificazione che l'approvazione dei partiti poteva sostituire la consultazione popolare sul piano costituzionale il voler disciplinare non solo i comportamenti al fine di costituire l'assemblea ma anche i suoi poteri può essere considerato sorprendente ma quella che a prima vista può apparire una forzatura logica trova il suo fondamento nel fatto per cui il governo che faceva appunto capo ai partiti antifascisti oltre a poter sanzionare la decisione in un suo decreto doveva disporre della forza politica che gli consentisse di stabilire le modalità di realizzazione e questa preventiva delimitazione dei poteri all'assemblea costituente proverebbe che una volta venuta meno la corona ma poi venuta meno anche la struttura cellenista i partiti restano i titolari ultimi del potere politico e quindi del potere costituente di fronte ai quali l'assemblea si poneva quasi come una realtà derivata non dotata quindi di un potere originario a questo punto appare richiamo il lavoro di mortati cui faceva riferimento anche Edoardo il lavoro di mortati sulla costituente del 45 ma appunto le cui radici affondano la riflessione che aveva già svolto negli anni 30 e 40 e il cui esito consente di collocare l'autore fra i discontinuisti questo perché mortati intende l'attività costituente come una rottura col precedente ordinamento fondandosi sulla necessità di fatto della formazione di un ordine costituzionale che sia caratterizzato dal pluralismo e in particolare ai partiti spetta a redigere cito una costituzione non effimera cosa significa costituzione non effimera una costituzione non effimera significa che nasce da un accordo necessario tra i partiti e che quindi ne garantisca e che quindi sia presupposto di un perdurante accordo mortati mostra che il processo costituente non riguarda solamente i rapporti tra poteri o la forma di governo ma la configurazione della società nel suo complesso e quindi utilizza cioè ricorre come limite rispetto ai poteri della costituente il parametro dei diritti dei cittadini diritti e doveri il fatto che l'assemblea costituente potesse occuparsi di ambiti tanto vasti non implica però un potere privo di vincoli che appunto è rappresentato non solo dai doveri ma dai diritti inviolabili come è stato osservato da Costa tale impostazione da un lato appare eccentrica rispetto alla dominante tradizione giuridica e dall'altro si presenta come la precipitazione giuridica di aspettative e prospettive etico-politiche largamente diffuse nella cultura e nella prassi del momento rispetto alla costituzione provvisoria Mortati avanza comunque una serie di critiche dal momento in cui dal momento che i limiti non sono posti come riteneva lui dai diritti dai diritti e da doveri ma soprattutto dai diritti inviolabili ma da quella suddivisione del lavoro di cui dicevamo prima Calamandrei più recisamente invece definisce la seconda costituzione provvisoria un colpo di Stato larvato pacifico euforico conversato ma un colpo di Stato la discussione poi prosegue anche in assemblea costituente dove si è da subito dibattuto sulla questione dei poteri e sulla giuridicità dei vincoli e sul rapporto tra assemblea e governo viene raggiunto un compromesso l'assemblea non affronta la questione della modifica o della ratifica della seconda costituzione provvisoria ma stabilisce il suo potere di non attenervisi ogni volta che lo ritenesse necessario e per quanto riguardava la sua posizione rispetto all'attività legislativa del governo viene ritenuto adeguato l'impegno del presidente del consiglio a rendere possibile all'assemblea l'esame di segni di legge anche su materie riservate al governo attraverso l'introduzione di specifici procedimenti che portano anche a una modifica del regolamento dell'assemblea costituente quindi tale assetto denota l'insorgere di una sorta di antagonismo costituzionale tra assemblea e governo che non trova una soluzione all'interno dell'assemblea costituente se non attraverso questa soluzione di compromesso di cui abbiamo detto cercando di concludere possiamo dire che le due costituzioni provvisorie sono il portato di due diverse fasi di quello che va complessivamente sotto il nome di periodo costituzionale provvisorio le cui asperità emergono già da un primo generale raffronto degli elementi che vengono modificati e quelli che restano i mutati ad esempio appunto non viene modificata la previsione dell'assemblea costituente come anche il principio per cui a tale organo non ospetta l'esercizio del potere legislativo ordinario il compromesso rappresentato dalla seconda costituzione provvisoria in particolare dal punto di vista giuridico reca una intrinseca debolezza ponendosi il problema di chi lo avrebbe garantito qualora l'assemblea costituente non avesse voluto riconoscerlo come in effetti è successo da parte di alcune minoranze l'impegno dei ministri del governo quindi a rispettare e a far rispettare l'accordo rappresentato alla seconda costituzione provvisoria può essere inteso quindi come un impegno assunto da parte dei partiti del governo questo è particolarmente vero una volta venuta meno la monarchia che per prima era interessata a mantenere questo compromesso e in tale situazione se i partiti maggiori fossero stati d'accordo sarebbe stato possibile approvare una legge costituzionale che ratificasse l'accordo o che attribuisse la piena sovranità appunto all'assemblea o anche l'intero potere legislativo quindi in estrema conclusione osservando la prima e la seconda costituzione provvisoria il potere costituente il cui peso maggiore al di là dell'influenza fino a un certo punto eserciato dalla monarchia e dagli alleati è svolto è quello dei partiti maggiori seppur obbligati a raggiungere dei compromessi senza i quali appunto sarebbe venuto meno lo stesso processo costituente in particolare dopo il referendum del 2 giugno tali partiti ritengono utile preservare l'accordo di fondo sulla seconda costituzione provvisoria pur adattato appunto dal compromesso dalla riforma regolamentare di cui si è detto e questo comporta che il potere costituente non si esaurisce nell'attività dell'assemblea che ne è solo una delle manifestazioni infatti un ruolo importante lo ha avuto il governo e appunto la la luogotenenza ma l'ultima osservazione che forse si può trarre è che l'elezione dell'assemblea costituente non garantisce che essa sia effettivamente e totalmente sovrana sia nel senso che essa potrebbe qualora ve ne siano le condizioni espandere i propri poteri sia nel senso che invece essa non sia il semplice mezzo di un potere costituente ad essa esterno ed estraneo tutto dipende dalle forze sociali e politiche che in un determinato contesto si manifestano dagli accordi che sono in grado di raggiungere e dalla risultante di questo appunto intreccio di rapporti grazie bene grazie anche per questo ultimo passaggio anche in senso cronologico sul quale vorrei sottolineare come la scelta di non attribuire all'assemblea costituente la potestà legislativa sia stata una scelta diciamo unfulata direi intelligente anche da un punto di vista di efficienza di risultato perché certamente i lavori per la stesura della Costituzione sarebbero risultati meno qualitativamente approfonditi insomma e oltre alle ragioni politiche che naturalmente lei ha opportunamente sottolineato e che certamente hanno contribuito ad adottare questa soluzione insomma l'altra cosa che colpisce un po' no se leggiamo oggi questa seconda Costituzione provvisoria è che emanata dal dal luogo tenente ma in cui si parla di come sarà eletto il nuovo capo dello Stato una conferma e anche insomma un gesto di correttezza no di cui va certamente dovuto alle circostanze ma insomma fa un po' specie leggere questo che in qualche modo che uno parla di come si costruiranno le sorti della Repubblica senza se stesso insomma bene allora abbiamo concluso questa intensa mattinata mi pare che sia stata molto positiva e produttiva grazie agli interventi di ciascuno ho visto che tutti hanno già un testo elaborato anzi qualcuno ha fatto riferimento a un testo maggiormente chiarificatore scritto e quindi credo che il professor Conti vi saprà mettere alle strette in tempi rapidi per la pubblicazione poi di quanto oggi esposto bene allora ci rivediamo alle ore 15 grazie